il principe Yuri Lubovetsky. Fra gli uomini eccezionali che ho conosciuto, uno dei più straordinari fu il principe russo Yuri Lubovetsky. Egli era molto più anziano di me, e fu per molto tempo il più anziano dei miei compagni e il mio più intimo amico. Il nostro incontro sul cammino della vita e gli stretti legami che ci unirono per lunghi anni ebbero come causa remota e indiretta un avvenimento tragico che tempo addietro aveva spezzato la sua vita familiare. Nella sua gioventù, quando era ufficiale della guardia, il principe si era profondamente innamorato di un'incantevole ragazza il cui carattere corrispondeva al suo, ed egli l'aveva sposata. Abitavano nella casa del principe a Mosca, in via Sadovaia. Alla nascita del suo primo bambino, la principessa morì di parto. Il principe, cercando un diversivo al suo dolore, si occupò prima di spiritismo, sperando così di entrare in comunicazione con lo spirito della sua cara defunta. Poi, senza neppure rendersene conto, concepì un interesse sempre crescente per le scienze occulte, e più in generale per la ricerca del significato della vita. Vi si interessò anzi a tal punto da cambiare completamente il proprio genere di vita. Non riceveva più anima viva, non andava più da nessuna parte, e rinchiuso nella sua biblioteca, studiava senza tregua alcuni problemi relativi all'occultismo che lo appassionavano. Un giorno, che era molto assorto nelle sue letture, un vecchio sconosciuto venne a disturbarlo nel suo lavoro. Con grande sorpresa di tutta la casa, il principe lo ricevette immediatamente, poi si rinchiuse con lui nella biblioteca dove ebbero una lunga conversazione. Poco dopo questa visita, il principe lasciò Mosca, e da allora passò quasi tutta la sua vita in Africa, nelle Indie, in Afghanistan e in Persia. Tornava in Russia soltanto di rado quando era indispensabile, e soltanto per brevi soggiorni. Il principe, che era molto ricco, consacrava tutta la sua fortuna alle sue ricerche, organizzando speciali spedizioni nei luoghi dove pensava di trovare una risposta alle sue domande. Egli visse a lungo in alcuni monasteri e fece la conoscenza di molte persone che si interessavano i suoi stessi problemi. Quando lo incontrai per la prima volta, egli era già un uomo maturo, e io non ero che un ragazzo. Da quel giorno e fino alla sua morte restammo in rapporti costanti. Quell'incontro avvenne in Egitto, ai piedi delle piramidi, poco dopo l'epoca del mio viaggio con Pogossian. Stavo tornando da Gerusalemme, dove avevo guadagnato un po' di denaro facendo visitare le curiosità della città ad alcuni stranieri, in particolare a certi russi, ai quali davo le spiegazioni d'uso. In breve, ero diventato una guida professionista. Non appena arrivato in Egitto, decisi di esercitarvi lo stesso mestiere. Parlavo molto bene il greco e l'arabo, come pure l'italiano, allora indispensabile per ogni europeo. In pochi giorni avevo assimilato tutto ciò che una guida deve sapere, e con una banda di piccole canaglie arabe mi misi ad abbindolare gli ingenui turisti. Già avvezzo a questo genere di pratiche, ero diventato una guida al fine di guadagnare il denaro necessario a ciò che avevo deciso di intraprendere. Devo dire che a quei tempi le mie tasche non erano, quel che si dice, imbottite. Un russo mi prese un giorno come guida. Seppi più tardi che era il professore di archeologia Skridlov. Una mattina che stavamo andando dalla Sfinge alla piramide di Cheope, un uomo dai capelli appena brizzolati gli si rivolse chiamandolo Becchino, e tutto rallegrato per l'incontro, gli chiese come stesse. Parlavano russo tra loro. Il mio cliente, non sapendo che anch'io parlavo russo, si rivolgeva a me con le sue quattro parole d'italiano. Sedetti ai piedi della piramide. Io mi misi non lontano da loro, di modo che, mentre mangiavo il mio ciurek, seguivo chiaramente ciò che si stavano dicendo. Capii presto che l'uomo era un principe. Fra l'altro egli chiese al professore, è vero che lei si ostina a tormentare le ceneri di individui morti da tempo e che colleziona ogni sorta di vecchiume di nessun valore con il pretesto che un giorno un popolo qualsiasi lo utilizzò per la sua stupida vita. Che vuole? rispose il professore. Almeno è qualcosa di reale, di tangibile, e non una cosa inafferrabile come quella cui lei ha consacrato la sua vita, invece di approfittarne a fondo, da uomo ricco e pieno di salute qual è. Lei è alla ricerca di una verità inventata un tempo da qualche pazzo sfaccendato. Ciò che io faccio forse non appagherà molto la curiosità, ma in fin dei conti, se si vuole, può riempire le tasche. Parlarono così a lungo. Poi il mio cliente volle andare a vedere un'altra piramide e si accomiatò dal principe dopo avergli dato appuntamento alle rovine di Tebe. Devo dire che nelle mie ore libere io percorrevo tutti quei posti come un ossesso, con la mia mappa dell'antico Egitto in mano sperando, grazie a essa, di trovare una spiegazione della sfinge e di alcuni altri monumenti antichi. Alcuni giorni dopo l'incontro del professore col principe ero seduto ai piedi di una piramide e riflettevo con la mappa distesa davanti. Improvvisamente sentii che qualcuno si stava chinando su di me. Ripiegai precipitosamente la mappa e mi voltai. Era l'uomo che si era rivolto al mio cliente, il professor Skridlov, davanti alla piramide di Cheope. Pallido e molto emozionato, egli mi chiese in italiano come fossi venuto in possesso di questo documento. Dalla sua espressione, dall'interesse che manifestava per quella carta, mi venne in mente che poteva benissimo trattarsi del principe del quale mi aveva parlato il prete armeno da cui l'avevo ricopiata di nascosto. Invece di rispondere alla sua domanda, gli chiesi a mia volta in russo se non fosse egli l'uomo che aveva voluto comprare una mappa da un certo prete. «Sì, sono proprio io», disse, e sedette accanto a me. Gli raccontai allora chi fossi, come quella carta fosse finita in mio possesso e come avessi già sentito parlare di lui. Cominciamo a fare conoscenza. Quando si fu tranquillizzato, mi propose di accompagnarlo a casa sua al Cairo per proseguire a nostro agio quella conversazione. A partire da quel giorno, l'interesse che avevamo in comune creò fra noi un vero legame e ci rivedemmo spesso. La nostra corrispondenza non doveva più interrompersi. Durante tutto quel periodo facemmo insieme vari viaggi nelle Indie, nel Tibet e in altri luoghi dell'Asia minore. Il nostro penultimo incontro ebbe luogo a Costantinopoli, dove egli aveva un palazzo privato, a Pera, vicino all'ambasciata di Russia, e dove di tanto in tanto soggiornava abbastanza a lungo. Questo incontro avvenne nelle seguenti circostanze. Io tornavo dalla Mecca in compagnia di dervisci bucariani con i quali avevo fatto conoscenza e di alcuni pellegrini sarti che tornavano a casa loro. Volevo andare da Costantinopoli a Tiflis, passare da Alexandropol per vedere i miei genitori, poi raggiungere Bukhara con i dervisci. Ma il mio incontro imprevisto con il principe dovevo obbligarmi a cambiare tutti i miei piani. Giunto a Costantinopoli, venne a sapere che la nostra nave non sarebbe partita prima di sei o sette giorni. Questa attesa di una settimana era per me molto incresciosa. Rimanere del tutto inattivo con le mani in mano non era affatto piacevole. Decisi così di approfittare di questa dilazione per recarmi a Bruce da un derviscio amico mio e cogliere l'occasione per visitare la famosa moschea verde. Passeggiando sulla riva a Galata, decisi di andare a casa del principe per lavarmi, darmi una spazzolata e rivedere la simpatica Marian Baggi, la vecchia governante armena del principe. Secondo la sua ultima lettera, il principe sarebbe già dovuto essere a Silon. Fui dunque molto sorpreso nell'apprendere che egli si trovava ancora a Costantinopoli, e anzi che era in casa. Come ho già detto, ci scrivevamo spesso, il principe e io, ma non ci vedevamo da due anni e questa fu una felice sorpresa. La mia partenza per Bruce fu ritardata. Rinunciai perfino al progetto di andare direttamente nel Caucaso perché il principe mi aveva chiesto di accompagnare in Russia una ragazza che aveva incontrato e per la quale aveva dovuto rimandare il suo viaggio a Silon. Quello stesso giorno andai al bagno turco, poi mi preparai e cenai col principe. Egli mi parlò di sé e mi raccontò con grande calore e in modo molto vivo la storia della ragazza che dovevo accompagnare in Russia. Poiché questa storia è quella di una donna che, secondo me, era straordinaria sotto ogni rapporto, mi sforzerò non solo di riferire nei particolari il racconto del principe Lubovetsky, ma parlerò anche di ciò che fu la sua vita in seguito, secondo ciò che potei sapere e osservare durante i miei incontri con lei. Tanto più che il manoscritto originale che avevo consacrato al racconto dettagliato della vita di questa donna straordinaria, con il titolo di Confessione di una Polacca, è rimasto in Russia insieme a una quantità di altri manoscritti la cui sorte mi è tutt'oggi del tutto ignota. Il principe cominciò così la sua storia. Proprio una settimana fa mi accingevo a partire per Silun su una nave della Dobrovolny Flot e avevo già preso posto a bordo. Fra le persone che mi accompagnavano c'era un addetto all'ambasciata russa. Nel corso della conversazione egli attirò la mia attenzione su un passeggero, un vecchio signore dall'aria rispettabile. Lo vede quell'uomo? Chi potrebbe mai supporre che è uno dei grandi trafficanti della Tratta delle Bianche? Eppure è la verità. Ciò fu detto di sfuggita. C'era folla sulla nave, molte persone erano venute a salutarmi e del vecchio signore mi importava poco, perciò dimenticai completamente queste parole. La nave salpò. Era mattina. Il tempo era limpido. Io sedevo sul ponte e leggevo. Vicino a me saltellava Jack, il cane del principe. Un fox terrier che lo accompagnava dovunque. Passa un'incantevole ragazza che accarezza Jack, poi gli porta dello zucchero. Ma senza il mio permesso Jack non accetta nulla da nessuno. Vedo che sbircia verso di me. Si può. Non si può. Faccio un cenno con il capo e gli dico in russo. Puoi, puoi. Anche la ragazza parlava russo. Ci mettemmo a chiacchierare. Alla solita domanda, dove sta andando, ella rispose che si stava recando ad Alessandria come governante della famiglia del console di Russia. Mentre stavamo parlando, il vecchio signore che mi era stato indicato dall'addetto d'ambasciata apparve sul ponte e chiamò la ragazza. Quando se ne furono andati, mi ricordai a un tratto ciò che mi era stato detto a proposito di questo personaggio e il fatto che egli conoscesse la ragazza mi sembrò sospetto. Mi misi a riflettere e cercai nei miei ricordi. Conoscevo il console di Alessandria e, per quanto potessi ricordare, egli non aveva nessun bisogno di una governante. I miei sospetti aumentarono. La nostra nave doveva fare scalo in molti porti. Al primo scalo, nei Dardanelli, spedii due telegrammi, uno al console russo ad Alessandria chiedendogli se avesse bisogno di una governante, l'altro a quello di Salonicco, dove dovevamo fermarci. Poi misi al corrente il capitano dei miei sospetti. In breve, giunti a Salonicco, avemmo la conferma dei miei sospetti e capimmo che questa ragazza era stata attirata in un tranello. La ragazza mi era sembrata simpatica. Decisi di salvarla dal pericolo che la minacciava, di riportarla in un luogo sicuro e di non ripartire per Silon prima di aver disposto qualcosa per lei. Lasciamo insieme la nave e il giorno stesso ne prendemmo un'altra che tornava a Costantinopoli. Non appena fummo arrivati, vogli rimandarla a casa, ma lei mi disse che non aveva nessuno da cui andare. Ecco perché sono stato costretto a trattenermi qui. La sua storia è abbastanza straordinaria. È polacca, nata nel governorato di Volinia. Ha trascorso la sua infanzia non lontana da Kouno, nella proprietà di un conte di cui suo padre era amministratore. Erano due sorelle e due fratelli. Poiché avevano perduto la mamma da bambini, erano stati allevati da una vecchia zia. La ragazza aveva quattordici anni e sua sorella sedici, quando il loro padre morì. Uno dei suoi fratelli studiava allora in Italia. Voleva diventare vescovo. L'altro era un vero mascalzone. Un anno prima era fuggito dal collegio e si diceva che si fosse nascosto da qualche parte a Odessa. Alla morte del padre, le due sorelle e la zia dovettero lasciare la proprietà perché doveva venire ad abitarvi un nuovo amministratore ed esse andarono a stabilirsi a Kouno. Poco tempo dopo, anche la vecchia zia morì. La situazione delle sorelle si faceva difficile. Su consiglio di un lontano parente, essi liquidarono i loro beni e partirono per Odessa, dove entrarono in una scuola professionale di cucito. La giovane Witwitskaya era molto bella e, al contrario della sorella maggiore, molto frivola. Aveva numerosi spasimanti. Fra essi c'era un commesso viaggiatore che la sedusse e la portò a Pietroburgo. Avendo litigato con la sorella maggiore, essa reclamò la propria parte di eredità. A Pietroburgo il commesso viaggiatore, dopo averle preso ogni bene, scomparve e lasciandola senza alcuna risorsa in quella città straniera. Dopo molte lotte e molte vicissitudini, ella divenne infine l'amante di un vecchio senatore. Ma questi fu ben presto geloso di un giovane seducente e la cacciò via. Venne allora introdotta nella rispettabile famiglia di un medico che si serviva di lei in modo molto originale per aumentare la propria clientela. La moglie del medico l'aveva incontrata nel giardino di fronte al teatro Alexandre. Le si era seduta accanto e l'aveva persuasa ad andare a vivere da loro. Poi le aveva insegnato a eseguire la manovra seguente. Doveva passeggiare lungo la prospettiva Gnevski e quando un uomo l'abordava, invece di mandarlo via, doveva incoraggiarlo e permettergli di accompagnarla fino a casa. Davanti alla porta si accomietava dal suo accompagnatore. Questi naturalmente chiedeva informazioni sul suo conto presso la portinaia e veniva a sapere che ella era dama di compagnia della moglie del medico. Cosicché il medico vedeva affluire nel suo gabinetto molti nuovi clienti che si inventavano varie malattie con la speranza segreta di un incontro piacevole. Per quanto ho potuto studiare della natura di Witwitskaya, riprese il principe con convinzione, credo che ella, nel suo subcosciente, doveva avere sempre provato ripugnanza per questa vita e che soltanto la necessità l'avesse costretta a piegarvisi. Un giorno che passeggiava sulla Gnevski cercando di attirare l'attenzione di eventuali clienti per il medico, essa incontrò per caso il suo fratello minore che non vedeva da alcuni anni. Egli era molto ben vestito e dava l'impressione di essere un uomo ricco. L'incontro con suo fratello era stato come un raggio di sole nella sua vita scialba. Egli le disse che si occupava di affari a Odessa e anche all'estero. Quando seppe che vita difficile facesse, le propose di andare a raggiungerlo a Odessa, dove egli conosceva una quantità di gente dove avrebbe potuto trovarle una buona sistemazione. Essa accettò. Appena giunta a Odessa, suo fratello le trovò presso una famiglia da bene, un posto interessante con prospettive per l'avvenire, quello di governante in casa del console russo ad Alessandria. Dopo qualche giorno, egli la presentò a un signore molto distinto che per l'appunto si recava anche egli ad Alessandria e accettava di accompagnarla. E fu così che un bel giorno, essa si imbarcò sulla nave in compagnia di quella rispettabile vecchio signore. Conosce il seguito. Il principe ripetè che, secondo lui, soltanto le circostanze e le tristi condizioni della sua vita familiare avevano portato questa ragazza sull'orlo del precipizio. La sua natura non era corrotta e in lei esisteva il germe di qualità eccellenti. Perciò egli aveva deciso di intervenire nella sua vita e di rimetterla sulla buona strada. Prima di tutto, concluse il principe, devo mandare quest'infelice da mia sorella nella mia proprietà del governorato di Tambov perché vi trascorra un periodo di riposo completo. Dopodiché vedremo. Conoscendo l'idealismo e la bontà del principe, ero scettico nei riguardi della sua impresa e pensavo che nel caso presente i suoi sforzi potessero risultare vani. Mi dicevo, tutto ciò che cade dal carro è perduto. Ancora prima di vedere Vitsvitskaya, non so perché provavo una specie di odio per lei. Ma siccome non potevo rispondere al principe con un rifiuto, avevo accettato molto a malincuore di accompagnare questa donna da poco. La vidi per la prima volta alcuni giorni più tardi, al momento dell'imbarco. Era bruna, piuttosto alta, molto bella e molto ben fatta. Aveva occhi buoni e onesti che a volte diventavano diabolicamente astuti. Credo che la tide della storia dovesse avere un po' lo stesso suo tipo. Nel vederla nacque in me un duplice sentimento. A volte provavo odio per lei, a volte pietà. Così dunque la condussi nel governorato di Tambov. Essa visse a lungo con la sorella del principe che concepì una grande amicizia per lei e la condusse all'estero per lunghi soggiorni, soprattutto in Italia. A poco a poco, a contatto con il principe e sua sorella, essa si interessò alle loro idee che diventarono ben presto parte integrante della sua essenza. Si mise a lavorare su se stessa con convinzione e chiunque la incontrasse, non fosse che una volta, poteva sentire gli effetti di questo lavoro. Dopo averla accompagnata in Russia, stetti a lungo senza vederla. Soltanto quattro anni più tardi la ritrovai per caso in Italia con la sorella del principe Yuri Lobovetsky in circostanze molto originali. Sempre inseguendo il mio scopo, un giorno arrivai a Roma. Siccome il mio denaro stava finendo, segui il consiglio di due giovani ai suori di cui avevo fatto la conoscenza e con il loro aiuto mi installai sul marciapiede come lustra scarpe. All'inizio, bisogna dirlo, i miei affari non furono brillanti. Perciò, per aumentare le mie entrate, decisi di dare a questo mestiere un tocco nuovo, per niente banale. Ordinai una poltrona speciale, sotto la quale sistemai un fonografo Edison, invisibile ai passanti. Di fuori si vedeva soltanto un tubo di gomma munito di diffusori disposti in modo tale che quando una persona si sedeva sulla poltrona, questi erano a portata delle sue orecchie. Non avevo che da avviare discretamente la macchina. In questo modo, mentre io gli illustravo le scarpe, il mio cliente poteva sentire la marsigliese o la maestosa aria di un'opera. Inoltre, fissai al braccio destro della poltrona una specie di vassoio sul quale posavo un bicchiere, una caraffa d'acqua, del vermut e dei giornali illustrati. Grazie a questi accorgimenti, i miei affari andarono a gonfie vele. Questa volta cominciarono a piovere le lire e non più i centesimi. I turisti giovani e ricchi erano particolarmente generosi. Intorno a me c'era sempre una quantità di sfaccendati. Essi aspettavano il loro turno per sedersi sulla poltrona dove, mentre io lustravo loro le scarpe, essi si sarebbero dilettati con qualcosa di inedito, mettendosi nello stesso tempo in mostra davanti agli occhi di altri idioti vanitosi della loro specie che andavano bighellonando da mane a sera. Nella folla che mi circondava notavo spesso una giovane donna. Essa attirava la mia attenzione perché mi sembrava di conoscerla, ma per mancanza di tempo non la guardavo mai molto da vicino. Un giorno odii per caso la sua voce, nel momento in cui diceva in russo alla vecchia signora che l'accompagnava, «Scommetto che è lui! È la cosa, mi incuriosì tanto che mi liberai come potei dai miei clienti, andai verso di lei e le chiesi in russo, mi dica alla prego chi è lei. Mi sembra di averla vista da qualche parte.» «Sì», disse. «Sono colei che un tempo lei odiava così intensamente che le povere mosche che si trovavano nel campo di vibrazioni del suo odio cadevano morte.» «Se si ricorda del principe Lubovetsky, si ricorderà forse anche dell'infelice che lei accompagnò da Costantinopoli in Russia.» «La riconobbi subito, e riconobbi anche la signora anziana che le stava vicino, che era la sorella del principe. Da quel giorno, fino alla loro partenza per Monte Carlo, passai tutte le mie serate con loro nel loro albergo. Un anno e mezzo dopo questo incontro, essa ci raggiunse in compagnia del professor Skridloff, nel luogo di riunione di una delle nostre grandi spedizioni, e da allora prese parte a tutti i viaggi del nostro gruppo errante.» «Per dare un'idea caratteristica del mondo interiore di Vitsvitskaya, questa donna, che era stata sull'orlo della rovina morale e che, grazie agli uomini di qualità che ebbe la fortuna di trovare sul suo cammino, diventò tale da poter essere un modello, oso affermarlo, ideale per ogni donna, mi accontenterò di un esempio.» «Ella si appassionava alla scienza della musica, e la conversazione che avemmo, lei e io, durante una delle nostre spedizioni, mostrerà bene con quale serietà considerasse questa scienza.» «Attraversando il centro del Turkestan, ottenemmo il permesso, grazie a efficaci raccomandazioni, di entrare in un monastero molto esclusivo, e vi trascorremmo tre giorni.» «La mattina della nostra partenza, Vitsvitskaya apparve pallida come la morte, con un braccio al collo.» «Non poté salire da sola sul suo cavallo e dovetti aiutarla con un compagno.» «Quando la nostra carovana si mosse, accostai il mio cavallo al suo, che era rimasto un po' indietro.» «Volevo sapere che cosa le fosse successo, e la salivo di domande.» «Pensavo che uno dei nostri compagni forse si era comportato come un bruto e aveva osato mancarle di rispetto, a lei, a questa donna che tutti consideravamo come una santa, e ardevo dal desiderio di sapere chi fosse quel vigliacco per ucciderlo sul posto come una pernice, senza neppure scendere da cavallo.» Alle mie domande, Vitsvitskaya finì per rispondere che il suo stato non aveva nessun'altra causa se non quella maledetta musica, ed essa mi chiese se ricordavo della musica di due giorni prima. «Se me ne ricordavo.» «Ci rivedevo ancora tutti seduti in un angolo del monastero, mentre ascoltavamo quasi singhiozzando la musica monotona che i frati suonavano durante una delle loro cerimonie? Ne avevamo poi discusso a lungo senza che nessuno di noi fosse in grado di spiegare l'accaduto.» Dopo qualche momento di silenzio, Vitsvitskaya, di sua iniziativa, ricominciò a parlare. Ciò che disse sull'origine del suo stato prese la forma di un racconto. «Non so se il paesaggio intorno a noi fosse particolarmente splendido quella mattina o se fosse per qualche altro motivo. Fatto sta che ciò che lei mi disse allora con straziante sincerità me lo ricordo ancora oggi, quasi per filo e per segno, dopo tanti e tanti anni.» Ognuna delle sue parole si impresse nel mio cervello con una forza tale che mi sembra ancora di sentirla in questo momento. Cominciò così. Non ricordo se qualcosa nella musica mi toccasse interiormente quando ero molto giovane, ma ricordo benissimo come ragionassi allora a questo proposito. Come tutti avevo paura di sembrare sciocca e quando lodavo o criticavo un brano di musica lo facevo unicamente con la mia testa. Anche se la musica che sentivo mi era del tutto indifferente, quando mi chiedevano il mio parere mi dichiaravo pro o contro, secondo le circostanze. A volte, quando tutti si profondevano in elogi, io prendevo il partito opposto, facendo uso di tutte le parole tecniche che conoscevo, perché la gente pensasse che non ero la prima venuta ma una persona istruita, capace di dare giudizi su tutto. Altre volte facevo coro con gli altri per condannare il pezzo, pensando che, poiché lo stavano criticando, c'era certamente in esso qualcosa che io ignoravo, ma che bisognava criticare. Invece, se lo approvavo, lo facevo dicendomi che il suo autore, chiunque fosse, poiché comporrere il suo mestiere, non lo avrebbe reso pubblico se esso non ne fosse stato degno. In breve, nell'elogio come nella critica, non ero mai sincera né verso me stessa né verso gli altri e neppure d'altronde provavo alcun rimorso di coscienza. Più tardi, quando la vecchia sorella del principe Lubovetsky mi prese sotto la sua protezione, mi convinse a imparare il pianoforte, perché, secondo lei, ogni donna intelligente e beneducata doveva saper suonare questo strumento. Per far piacere a quella vecchia, cara signora, mi consacrai interamente allo studio del pianoforte. Dopo sei mesi suonavo abbastanza bene, tanto che mi pregarono di partecipare a un concerto di beneficenza e tutti gli amici che assistettero a quel concerto mi coprirono di elogi, entusiasti del mio talento. Un giorno che avevo appena suonato, la cara vecchia signora venne a sedere accanto a me e mi disse con molta gravità e solennità che, poiché Dio mi aveva concesso un dono simile, sarebbe stato un grande peccato trascurarlo e non permettergli di svilupparsi completamente. Aggiunse che, siccome avevo cominciato a studiare la musica, dovevo imparare a conoscerla a fondo per non suonare come una ragazza qualsiasi. Perciò mi esortò a studiare prima la teoria della musica e anche se fosse stato necessario a prepararmi per dei concorsi. A partire da quel giorno fece arrivare per me ogni tipo di opere sulla musica e andò perfino a mosca per comprarne. Presto, lungo le pareti della mia stanza di studio, si allinearono grandi scaffali pieni di libri e di opere musicali. Mi dedicai con fervore allo studio della teoria della musica non soltanto perché volevo compiacere la mia benefattrice, ma perché ci avevo preso gusto e il mio interesse per le leggi dell'armonia aumentavano ogni giorno di più. Però i libri che avevo non potevano darmi nulla perché non vi si spiegava ciò che la musica realmente era, né come si fossero costituite le sue leggi. Invece a ogni pagina si ritrovava lo stesso genere di indicazioni. Si diceva che da noi l'ottava comprende sette note, ma che presso gli antichi cinesi ne contava solo cinque, che presso gli antichi egizi l'arpa si chiamava tebuni e il flauto mem, che le antiche melodie greche erano costituite su modi vari, ionio, frigio, dorico e altri, che nel nono secolo aveva fatto la sua comparsa alla polifonia e aveva avuto effetti così catastrofici che si citavano persino casi di parti prematuri, perché la madre era rimasta traumatizzata nell'udire l'organo della chiesa e eseguire questa musica nuova. Che nell'undicesimo secolo un certo monaco, Guido d'Arezzo, aveva inventato il solfeggio, eccetera. Vi si parlava soprattutto dei musici celebri e della loro carriera. Si arrivava a descrivere le cravate e gli occhiali che i compositori più famosi portavano, ma quanto all'essenza stessa della musica e all'influenza che essa esercita sullo psichismo degli uomini, non se ne parlava da nessuna parte. Passai un anno intero a studiare questa pretesa teoria della musica. Lessi quasi tutti i miei libri e giunsi alla convinzione definitiva che questa letteratura non mi avrebbe dato nulla. Ma siccome il mio interesse per la musica non faceva che crescere, rinunciai a ogni lettura e mi tuffai nei miei pensieri. Un giorno, spinta dalla noia, presi dalla biblioteca del principe un libro intitolato Il mondo delle vibrazioni, che diede un orientamento ben definito alle mie riflessioni sulla musica. L'autore di quell'opera non era affatto un musicista, anzi, era evidente che non si interessava di musica. Era un ingegnere e un matematico. In un passo del suo libro, egli alludeva alla musica, ma semplicemente a titolo di esempio per spiegare le vibrazioni. Egli diceva che i suoni musicali portano con sé alcune vibrazioni che nell'uomo agiscono necessariamente su alcune vibrazioni corrispondenti, e questo è il motivo per cui l'uomo ama o non ama questa o quella musica. Capii immediatamente, e fui interamente d'accordo con le ipotesi dell'ingegnere. Da allora tutti i miei pensieri vennero trascinati in quella direzione, e quando parlavo con la sorella del principe mi sforzavo sempre di portare la conversazione sulla musica e sul suo reale significato, cosicché essa si interessò a sua volta della questione. Ne discutevamo insieme e tentavamo degli esperimenti. La sorella del principe comprò perfino alcuni gatti, dei cani e altri animali appositamente per questo scopo. A volte invitavamo a queste sedute alcuni nostri domestici, offrivamo loro il tè, e per ore intere io suonavo il pianoforte per loro. I primi tempi non ottenemmo nessun risultato, ma un giorno che avevamo fatto venire cinque dei nostri domestici e dieci contadini del villaggio che un tempo erano appartenuti al principe, metà di loro si addormentò mentre io suonavo un waltzer di mia composizione. Ripetemmo varie volte questo esperimento, e ogni volta il numero di quelli che dormivano aumentava. Nonostante i tentativi che feci insieme alla mia vecchia amica per comporre, secondo i principi vari, una musica suscettibile di produrre altri effetti sugli ascoltatori, l'unico risultato che ci riuscì di ottenere fu di addormentarli. A forza di lavorare e di pensare di continuo alla musica, finii per stancarmi e per dimagrire a tal punto che un giorno, notando lo stato in cui mi trovavo, la mia benefattrice si impaurì, e su consiglio di un nostro amico si affrettò a portarmi all'estero. Partimmo per l'Italia. Laggiù, sotto l'influenza di altre impressioni, mi ristabilì e a poco a poco. E soltanto cinque anni più tardi, dopo aver assistito agli esperimenti dei frati monopsichisti durante il viaggio che feci con lei nel Pamir e in Afghanistan, mi misi di nuovo a riflettere sul potere della musica, senza dedicarvi tuttavia alla passione di un tempo. In seguito, ogni volta che mi ricordavo del mio primo tentativo, non potevo fare a meno di ridere della nostra ingenuità di allora e del significato che davamo al sonno dei nostri invitati. Non ci sfiorava l'idea che quegli uomini si addormentassero spesso e volentieri semplicemente perché avevano preso l'abitudine di sentirsi come a casa propria e che era piacevole per loro, dopo una lunga giornata di lavoro, mangiare bene, bere un bicchiere di vodka offerto dalla buona vecchia signora e poi adagiarsi in poltrone confortevoli. Dopo le nostre visite ai frati monopsichisti, tornai in Russia e ricordandomi delle loro spiegazioni ripresi le mie ricerche. Come consigliavano i frati, determinai l'a assoluto, conformemente alla pressione atmosferica misurata sul luogo degli esperimenti e accordai il mio pianoforte tenendo conto delle dimensioni della stanza. D'altra parte, per i miei tentativi, scelsi soggetti che erano già stati varie volte sottoposti all'impressione di alcuni accordi. Infine, presi in considerazione il carattere dei luoghi e la razza alla quale apparteneva ognuno degli astanti. Tuttavia, non ottenevo risultati. In altre parole, non riuscivo, con l'aiuto di un'unica melodia, a risvegliare il medesimo sentimento in tutti gli ascoltatori. Senza dubbio, quando questi corrispondevano esattamente alle condizioni richieste, potevo suscitare in loro a mio piacimento il riso o le lacrime, la cattiveria o la bontà e così via. Ma negli uomini di sangue misto, quando lo psichismo di un soggetto era un po' fuori dal comune, le reazioni erano di nuovo differenti e, nonostante tutti i miei sforzi, non riuscivo a fare apparire in tutti senza eccezione con un unico motivo musicale l'umore che io desideravo. Abbandonai dunque ancora una volta le mie ricerche, credendo di potermi considerare soddisfatta dei risultati che avevo ottenuto. Ma ecco che ieri l'altro questa musica quasi senza melodia ha provocato lo stesso stato in tutti noi che siamo di razze e di nazionalità completamente differenti e perfino di carattere, di tipi, di abitudini e di temperamenti opposti. Spiegare la cosa con il sentimento gregario non è possibile perché, come ci hanno dimostrato recenti esperimenti, questo sentimento è totalmente assente da tutti i nostri compagni e ciò grazie al lavoro che essi hanno compiuto su se stessi. In breve, ieri l'altro non c'era nulla di ciò che avrebbe potuto provocare questo fenomeno e di ciò che avrebbe permesso di spiegarlo. E quando, dopo la musica, sono tornata nella mia stanza, si è risvegliato in me l'intenso desiderio di conoscere la vera causa di questo enigma sul quale per tanto tempo ero stata a rompermi la testa. Ero a tal punto addormentata dal bisogno di capire ciò che questo poteva significare che non ho chiuso occhio per tutta la notte e non ho smesso di pormi domande per tutto il giorno successivo. Ho perfino perso l'appetito. Non ho né mangiato né bevuto nulla. E questa mattina la mia disperazione era tale che per la rabbia o per lo sfinimento o per non so quale altro motivo mi sono morsa il dito senza rendermene conto, con tanta forza che me lo sono quasi staccato dalla mano. Per questo, o il braccio al collo, mi duole tanto che posso appena reggermi sul cavallo. La sua storia mi commosse molto. Desideravo con tutto il cuore di aiutarla, perciò le parlai a mia volta di un fenomeno straordinario di cui ero stato testimone per caso l'anno precedente, che si riferiva anch'esso alla musica. Le raccontai nei particolari come, grazie a una lettera di raccomandazione di un uomo di grande valore, padre Evlissi, che mi era stato maestro durante la mia infanzia, ero stato accolto presso degli Esseni, per la maggior parte israeliti, e che per mezzo della musica e di antichi canti ebraici avevano fatto crescere delle piante nel giro di una mezz'ora, e le descrissi in che modo avevano proceduto. Il mio racconto la conquistò a tal punto che le sue guance si colorarono di rosa. Il risultato della nostra conversazione fu che decidemmo che, non appena tornati in Russia, ci saremmo stabiliti in una città dove avremmo potuto, senza essere disturbati da nessuno, intraprendere seriamente degli esperimenti sulla musica. Durante il resto del viaggio, Vitsvitskaya, tornata a sé stessa, fu con noi come era sempre stata. Scalava le rocce, nonostante il suo dito ferito con maggiore agilità di tutti gli altri e poteva distinguere a quasi 20 chilometri di distanza i monumenti che servivano da punto di riferimento. Vitsvitskaya morì in Russia. Aveva preso freddo durante un viaggio in slitta sul Volga. Fu sepolta a Samarra. Ero presente al momento della sua morte perché, non appena si era ammalata, ero stato chiamato a Tashkent. Quando ripenso a lei, ora che ho già passato il capo della prima metà della mia vita, visitato quasi tutti i paesi del mondo e avvicinato migliaia e migliaia di donne, devo riconoscere che non ho mai incontrato una donna come lei e che certamente mai più ne incontrerò. Per tornare al più anziano dei miei compagni, all'amico della mia essenza, il principe Lubovetsky, dirò che egli lasciò a Costantinopoli poco tempo dopo la mia partenza e non lo rividi più per alcuni anni. Tuttavia ricevevo periodicamente sue lettere, di modo che sapevo sempre più o meno dove si trovava e qual era in quel momento l'interesse dominante della sua vita. Si recò in primo luogo nell'isola di Silon, poi intraprese una spedizione per risalire il corso del fiume Indo fino alla Sorgente. Più tardi mi scrissi ancora «ora dall'Afghanistan, ora dal Belucistan o dal Kafirstan». La nostra corrispondenza si interruppe poi bruscamente e non sentii più parlare di lui. Avevo finito per convincermi che fosse morto durante uno dei suoi viaggi e a poco a poco mi ero abituato all'idea di aver perduto per sempre l'uomo che mi era stato più vicino, quando lo ritrovai in modo inaspettato nel cuore stesso dell'Asia, in circostanze straordinarie. Per collocare meglio il mio ultimo incontro con colui che rappresenta, secondo me, nelle condizioni di vita attuali, un ideale degno di essere proposto agli uomini, devo una volta di più interrompere il mio racconto per parlare di un certo Soloviev, che fu anche egli mio compagno. Soloviev divenne un esperto in medicina orientale e più particolarmente in medicina tibetana. Fu anche il primo specialista del mondo in materia di opio e di hashish, di cui conosceva a fondo l'influenza sull'organismo e lo psichismo degli esseri umani. Il caso volle che il mio ultimo incontro con Yuri Lubovetsky avvenisse durante un viaggio che feci in Asia centrale insieme a Soloviev. Soloviev A sette o otto chilometri da Bukhara, capitale del Canato o dello stesso nome, i russi hanno costruito intorno alla stazione ferroviaria trans-caspiana una grande città che hanno chiamato Nuova Bukhara. Lì abitavo quando incontrai Soloviev per la prima volta. Ero venuto a vivere a Bukhara per trovarmi nei luoghi dove si avevano maggiori possibilità di penetrare i principi stessi della religione di Maometto e per incontrarvi i dervisci di ogni setta, fra cui il mio vecchio amico Bogaedin, ma costui non si trovava a Bukhara e nessuno mi seppe dire dove fosse andato. Tuttavia avevo buoni motivi per contare su un suo prossimo ritorno. Al mio arrivo a Nuova Bukhara presi in affitto una stanza presso una grossa ebrea che vendeva del kvas russo. Vessi in quella stanza in compagnia del mio fedele amico Pilos, un enorme cane da pastore curdo che mi accompagnò dovunque per nove anni. In tutte le città e località dei vari paesi dove mi fermai per qualche tempo, questo Pilos diventava presto celebre, soprattutto tra i ragazzini del paese, per la sua abilità nel portarmi un bollitore pieno d'acqua bollente che io lo mandavo a prendere nei jaikane e nei takhtir per preparare il mio tè. A volte andava perfino a fare la spesa con l'elenco delle commissioni in bocca. Questo cane, secondo me, era così straordinario che non mi sembra superfluo perdere un po' di tempo per far conoscere al lettore il suo raro psichismo. Farò alcuni esempi dell'ingegnosità associativa delle sue manifestazioni psichiche. Poco tempo prima, su consiglio di Boga e Din, ero andato a visitare nella città bucariana di Pi i dervisci di una certa setta. Ma questi ultimi lasciarono presto la città e io decisi di partire a mia volta per Samarkanda. Le mie risorse materiali erano agli sgoccioli. Dopo aver pagato la mia stanza al caravan serraglio e saldato gli altri miei debiti, mi rimanevano in tutto circa 60 copechi. Guadagnare denaro in quella città era diventato impossibile perché non era la stagione degli affari, né era facile in quell'angolo sperduto di provincia tagliato fuori dalla civiltà europea commerciare in oggetti d'arte o in novità tecniche. A Samarkanda, invece, c'erano molti russi e stranieri appartenenti alle varie nazioni europee. Inoltre, prevedendo la possibilità di un viaggio in quella regione, avevo lasciato a Tiflis delle istruzioni perché mi si mandasse del denaro laggiù. Non avendo il denaro per il viaggio, decisi di percorrere a piedi quella distanza, cioè circa cento verste, e partii un bel giorno con il mio amico Filos. Per strada comprai del pane per cinque copechi e per altri cinque copechi una testa di agnello per Filos. Ero molto parsimonioso nel dispensare le nostre provviste, perciò eravamo ben lungi dall'essere sazi. A volte la nostra strada costeggiava da entrambi i lati dei bustani, cioè degli orti. Nel Turkestan, per dividere gli orti e recintarli lungo le strade, si usava seminare delle siepi di Topinambur che crescono molto alte e molto fitte, e sostituiscono gli steccati di legno o di fil di ferro. La nostra strada era così fiancheggiata da Topinambur, e siccome avevo molta fame, avrei mangiato qualsiasi cosa, decisi di strapparne alcuni. Gettai un'occhiata intorno per assicurarmi che nessuno mi vedesse. Disotterrai rapidamente quattro grossi Topinambur e mi rimisi in marcia divorandoli con sommo godimento. Vogli farne assaggiare uno a Filos, ma egli lo annusò e rifiutò di mangiarlo. Arrivato a Nuova Samarkanda, presi in affitto una stanza presso un privato, nei soborghi della città, e mi recai immediatamente all'ufficio postale. Il denaro non era ancora arrivato. Riflettendo allora i mezzi per procurarmene, decisi di fabbricare dei fiori artificiali e andai immediatamente in un negozio per comprare della carta colorata. Ma per strada calcolai che con i miei cinquanta copechi ne avrei comperata ben poca. Comprai soltanto della carta bianca molto sottile e alcuni tubi di colore all'anilina per colorare io stesso la mia carta bianca e confezionare così con poca spesa una grande quantità di fiori. Uscito dal negozio andai nel giardino pubblico e sedetti su una panchina all'ombra degli alberi per riposare. Il mio Filos si accucciò accanto a me. Immerso nei miei pensieri guardavo gli alberi dove i passeri volavano di ramo in ramo, nella quiete e la frescura. Improvvisamente mi venne un'idea. Perché non cercare di guadagnare denaro con i passeri? Gli abitanti del posto, i sarti, amano molto i canarini e altri uccelli canori. In che cosa un passero sarebbe peggio di un canarino? Nella strada che costeggiava il giardino pubblico c'era una stazione di carrozze da nolo dove numerosi cocchieri si riposavano e sonnecchiavano sul loro sedile nella canicola meridiana. Ci andai e strappai dalla coda dei cavalli i crini che mi occorrevano per fabbricare dei lacci che posai in vari posti. Per tutto il tempo Filos mi osservò con grandissima attenzione. Presto un passero fu preso al laccio, lo staccai delicatamente e lo portai a casa. Chiesi delle forbici alla padrona di casa e cominciai col tagliare le ali del mio passero per dargli la forma di un canarino. Poi lo colorai in modo fantastico con i miei colori all'anilina. Portai quindi questo passero nella vecchia samarcanda dove lo vendetti subito, facendolo passare per un canarino americano di una specie rara per cui chiesi due rubli. Con questo denaro comprai immediatamente alcune gabbie dipinte molto semplici e mi misi allora a vendere i miei passeri in gabbia. In due settimane vendetti quasi 80 di questi canarini americani. I primi tre o quattro giorni portai Filos con me a questa caccia ai passeri, ma quando fu diventato una celebrità fra i ragazzini della nuova samarcanda dovetti lasciarlo a casa perché tutti i ragazzini gli si avvicinavano nel giardino pubblico e ciò spaventava i passeri e mi impediva di acchiapparli. L'indomani del giorno in cui cessai di portare Filos con me, egli scomparve presto. Tornò soltanto la sera, stanco, tutto infangato e posò trionfalmente sul mio letto un passero, morto, ben inteso. E questo si ripetè ogni giorno. Egli usciva al mattino e non rincasava mai senza portare un passero morto che posava sul mio letto. Non mi arrischiai a soggiornare a lungo a samarcanda. Avevo paura che i miei passeri, con che cosa non va a scherzare il diavolo, prendessero la pioggia o che a uno di loro venisse in mente di bagnarsi nella sua vaschetta, ciò che avrebbe potuto causare un grande scandalo perché il mio canarino americano sarebbe ridiventato un orrendo passero spennato. Mi affrettai dunque a sloggiare alla chetichella. Da samarcanda mi recai alla nuova Bukhara, dove, come già dissi, contavo di trovare l'amico derviscio Bogaeddin. Mi sentivo ricco. In tasca avevo più di centocinquanta rubli, e a quei tempi una simile somma era considerata ragguardevole. Giunto sul posto, presi dunque in affitto una stanza presso una grassa mercantessa di kvas russo. Non c'era nessun mobile in quella stanza. Di notte, a mo' di letto, stendevo un lenzuolo per terra in un angolo e dormivo senza guanciale. Se agivo così, non era soltanto per fare economia. Certo, questo modo di dormire non mi costava molto caro, ma il vero motivo era che in quel periodo della mia vita aderivo con convinzione alle idee dei famosi yogi hindù. Devo confessare tuttavia che a quel tempo, perfino nei momenti delle mie maggiori difficoltà materiali, non riuscivo a rinunciare al lusso di dormire su un lenzuolo pulito e di strofinarmi la sera con un'acqua di colonia di almeno 80 gradi. Quanto a Phyllos, egli aspettava quei cinque o dieci minuti entro i quali, secondo i suoi calcoli, mi sarei dovuto addormentare. Dopodiché si accucciava a sua volta su questo letto improvvisato, e mai dalla parte del mio viso, ma contro la mia schiena. Al capezzale di questo giaciglio ultraconfortevole avevo un comodino anch'esso molto pratico, fatto dei libri che mi interessavano in quel periodo che legavo in un pacco. Su questo originale tavolo libreria posavo per la notte tutti gli oggetti che potevano essermi necessari. Una lampada a petrolio, un tacquino, della polvere contro le cimici, eccetera. Qualche giorno dopo il mio arrivo nella nuova bucara una mattina sul mio tavolo improvvisato trovai un enorme topinambur. Ricordo che pensai... quella burlona di una padrona di casa. Nonostante la sua pinguedine è abbastanza sottile da aver indovinato subito che ho un debole per i topinambur. E lo mangiai con grandissimo piacere. Ero convinto che fosse stata la padrona di casa a portarmi quel topinambur per la buona ragione che nessun altro entrava nella mia stanza. Quel giorno, quando la incontrai nel corridoio, la ringraziai dunque con convinzione per il topinambur e la canzonai perfino in modo un po' salace, ma con mia grande sorpresa capii chiaramente dalla sua espressione che non sapeva nulla del topinambur. L'indomani mattina, nello stesso posto, trovai un altro topinambur che mangiai con altrettanto piacere, ma riflettei seriamente su questa apparizione misteriosa. Quale non fu il mio stupore il terzo giorno nel vedere che lo stesso fenomeno si era ripetuto? Questa volta decisi di aprire bene gli occhi per scovare l'autore di questo scherzo, piacevole forse, ma molto enigmatico. Per vari giorni non riuscii a scoprire nulla, e tuttavia ogni mattina trovavo un topinambur nello stesso posto. Finalmente, per osservare questo fatto che mi incuriosiva sempre di più, mi nascosi dietro un barile di kvas che si trovava nel corridoio. Improvvisamente vidi il mio Filos accostarsi con precauzione vicino al barile. In bocca teneva un grosso topinambur che andò a posare nella mia stanza al solito posto. L'indomani, al momento di uscire, diedi a Filos dei buffetti sulla parte sinistra della testa, ciò che fra noi significava «vado lontano e non porto il cane con me». Ma attraversai soltanto la strada. Entrai in un negozio di fronte alla casa e mi misi a sorvegliare la porta. Presto Filos uscì, si guardò intorno e si avviò in direzione del mercato. Lo seguì furtivamente. Al mercato, vicino alla pesa pubblica, c'erano alcuni negozi di generi alimentari, tutti affollati. Filos passeggiava tranquillamente tra la folla e io non lo persi d'occhio. Passando vicino a una bottega, fece un giro di spezione. Poi, credendo che nessuno lo vedesse, prese rapidamente un topinambur da un sacco posato davanti alla bottega e scappò via. Quando tornai a casa, trovai il topinambur al suo posto. Descriverò ancora un aspetto del carattere di questo cane sorprendente. Quando uscivo senza portarlo con me, egli si sdraiava davanti alla porta e aspettava il mio ritorno. Lasciava entrare tutti nella mia stanza, ma non permetteva a nessuno di uscirne senza di me. Se qualcuno voleva uscire dalla mia stanza in mia assenza, questo enorme molosso cominciava a ringhiare e a mostrare le zanne. Ciò bastava perché il visitatore si sentisse la terra sprofondare sotto i piedi? Questo provocava perfino degli incidenti comici, di cui farò un esempio che avvenne precisamente nella Nuova Bukhara. Il giorno prima di questo incidente, un cinematografaro ambulante polacco si rivolse a me, dietro indicazione di abitanti del posto che mi conoscevano come l'unico specialista in questo genere di lavoro, perché riparassi una perdita in uno dei due globi di acetilene che allora servivano a questi professionisti come fonte di illuminazione per la proiezione dei loro film. Promisi a questo polacco di andare a fare la riparazione non appena mi fosse stato possibile. All'indomani della nostra conversazione, egli notò che anche l'altro contenitore perdeva gas. Temette che lo spettacolo seguente andasse a monte e decise di non aspettarmi e di portarmi egli stesso ai globi. Quando lo informarono che non ero in casa e che la mia stanza era aperta, poiché non voleva trasportare un'altra volta i due pesanti serbatoi, decise di lasciare da me. Quella mattina mi ero recato nella vecchia Bukhara per visitare una moschea, e siccome la presenza di un cane in un tempio o perfino nella cinta del tempio è considerato un grande sacrilegio, soprattutto fra i seguaci della religione musulmana, ero stato costretto a lasciare Filos a casa. Secondo la sua abitudine, egli si era sdraiato davanti alla mia porta per aspettare il mio ritorno. Filos lasciò dunque entrare il cinematografaro nella stanza, ma uscire fu un altro paio di maniche, e il povero polacco, dopo alcuni vani tentativi, dovette rassegnarsi a restarsene seduto per terra senza mangiare né bere, rosso dall'inquietudine fino al momento in cui, a sera inoltrata, tornai a casa. Vivevo dunque nella nuova Bukhara. Stavolta mi ero messo sul serio a fabbricare fiori artificiali. Questo modo di guadagnare denaro presentava per me alcuni vantaggi. Grazie al commercio dei fiori avevo libero accesso in quasi tutti i posti che mi interessavano. I guadagni promettevano di essere buoni durante quella stagione dell'anno. Il momento era propizio per smerciare i miei fiori perché era la fine della quaresima e, come tutti sanno, gli abitanti di quelle regioni amano, per Pasqua, infiorare le loro case e le loro tavole. Quell'anno la Pasqua ebraica coincideva quasi con la Pasqua cristiana. Siccome la popolazione della nuova e della vecchia Bukhara comprendeva numerosi seguaci di queste due religioni, c'era un'eccezionale richiesta di fiori artificiali. Dovetti mettermi a lavorare senza tregua, quasi giorno e notte. Mi interrompevo soltanto di rado per andare a trovare i miei amici dervisci oppure le sere in cui ero molto stanco per giocare a biliardo in un ristorante vicino a casa mia. Nella mia gioventù mi piaceva molto il biliardo ed ero diventato maestro in quest'arte. La sera del giovedì santo, mentre stavo facendo una partita dopo la mia giornata di lavoro, sentii improvvisamente dei rumori e delle grida nella stanza accanto. Gettata la stecca a corsi e vidi quattro uomini che ne stavano picchiando di santa ragione un altro. Non conoscevo quegli uomini e non sapevo ciò che stesse succedendo, ma mi precipitai a difendere quello che sembrava in difficoltà. Nella mia gioventù ero stato appassionato di jiu-jitsu giapponese e di Fitzlitzlow ivinziano ed ero sempre contento di trovare l'occasione di mettere in pratica le mie conoscenze in questo campo. Anche stavolta, per amore dello sport, presi parte alla mischia con ardore e fra noi due, il mio sconosciuto e io, appioppammo i nostri avversari una bella scarica di botte. Furono presto costretti a battere in ritirata. A quei tempi la nuova Bukhara era una città ancora nuovissima. La popolazione era composta da elementi occasionali, fra cui numerosi esuli russi che vivevano con le carte da lupi, come si usava dire laggiù, sotto la sorveglianza della polizia. Era un miscuglio vario pinto di cittadini di ogni nazionalità, tutti al bando della società o in attesa di qualcosa. C'erano criminali che avevano già scontato la loro pena e numerosi condannati politici esiliati da qualche tribunale o colpiti da una di quelle misure amministrative di cui si faceva largo uso nella Russia di una volta. L'ambiente e le condizioni nelle quali vivevano questi esiliati erano così miserevoli che essi finivano tutti per darsi al bere. Anche quelli che non avevano predisposizioni ereditarie né avevano mai bevuto prima obbedivano naturalmente senza opporre resistenza alla tendenza generale. Gli uomini con i quali mi ero battuto appartenevano proprio a questo ambiente. Dopo la battaglia voglio accompagnare a casa il mio compagno d'armi per paura che, rincasando da solo, avesse a passare un brutto quarto d'ora, ma risultò che egli abitava nello stesso posto degli altri quattro, in vagoni fuori uso lungo la ferrovia. Siccome cominciava a imbrunire non mi rimaneva altro da fare che proporgli di venire a casa mia. Egli accettò. Il mio nuovo compagno, si trattava di Soloviev, era ancora un ragazzo, ma si vedeva che aveva già preso l'abitudine di bere. Era stato duramente colpito nella battaglia. Aveva il viso tutto contuso e grossi lividi sotto gli occhi. L'indomani mattina aveva un occhio molto gonfio. Lo persuasi a non uscire e a restare a casa mia finché non fosse stato meglio. D'altronde il suo lavoro era finito il giorno prima, per via della prossima Pasqua. Nella giornata di venerdì usci per conto suo, ma tornò a dormire da me. L'indomani, che era sabato santo, io trascorsi quasi tutto il tempo a fare commissioni. Dovevo consegnare i fiori che mi erano stati ordinati per le feste. Fui libero soltanto alla sera. Siccome non avevo nessun amico cristiano e dunque nessun posto dove andare a celebrare la Pasqua, comprai un kulich, una pasca, delle uova dipinte. In breve, tutto ciò che la consuetudine esige in questa occasione, insieme a una bottiglia di vodka, e portai il tutto a casa. Soloviev non c'era. Mi lavai, mi spazzolai i vestiti, non avevo di che cambiarmi e andai da solo in chiesa per assistere alla messa. Al mio ritorno trovai Soloviev che dormiva. Siccome non c'era un tavolo nella stanza, presi una grande cassa vuota nel cortile e la portai dentro pian pianino per non disturbarlo. La ricoprì con un lenzuolo pulito. Ci misi sopra tutto ciò che avevo comprato per fare il cenone e soltanto allora chiamai Soloviev. Fu una vera sorpresa per lui ed egli accettò con gioia di partecipare a questo banchetto solenne. Ci mettemmo a tavola. Egli sedette sui miei libri e io su un secchio rovesciato. Cominciai con il versare a tutti e due un bicchierino di vodka, ma con mia grande sorpresa egli mi ringraziò e rifiutò di berlo. Bevì da solo. Soloviev si mise subito a mangiare. Filos, che assisteva a questa solennità, ricevette una doppia porzione, due teste di pecora. Sedevamo in silenzio e mangiavamo. Né per me né per Soloviev questa era una Pasqua felice. Io mi sovvenivo del quadro di una festa trascorsa in famiglia. Pensavo ai miei cari lontani. Anche Soloviev inseguiva i suoi pensieri e restammo così a lungo, senza scambiarci una parola. Improvvisamente Soloviev disse, come parlando a se stesso, aiutami signore, in nome di questa notte santa a trovare la forza di non toccare più questo veleno che mi ha ridotto nello stato in cui sono. Tacque, fece un gesto sconsolato e sospirò. Ah, ah. Poi si mise a raccontarmi la sua vita. Non so che cosa lo spingesse a farlo. Forse la Pasqua gli riportava ricordi cari e lontani del tempo in cui egli era un uomo. Era forse la tavola che avevo preparato con cura e la cena inaspettata. Oppure le due cose insieme. Comunque sia, quel giorno, egli mi aprì il suo cuore. Soloviev era stato impiegato alle poste, e questo in modo del tutto accidentale. Proveniva da una famiglia di mercanti di Samarra. Suo padre dirigeva una grande impresa di mulini. Sua madre apparteneva a una famiglia di aristocratici decaduti ed era stata allevata nell'istituto riservato alle ragazze della nobiltà. L'unica educazione che avesse saputo dare ai suoi figli consisteva nell'imbottirli di buone maniere di regole di Galateo. Il padre, sempre preso dai suoi mulini e dai suoi affari, non era quasi mai in casa. Inoltre gli piaceva bere e regolarmente, varie volte all'anno, si ubriacava per intere settimane. Quando era sobrio, aggiungeva suo figlio, egli era una vera testa di mulo. I genitori di Soloviev, che avevano ciascuno la propria vita e i propri interessi, si tolleravano l'un l'altro, come si suol dire. Soloviev aveva un fratello minore. Tutti e due andavano al liceo. I genitori si erano in qualche modo divisi i figli. Il maggiore era il favorito della madre, e il minore quello del padre. Perciò c'erano sempre scenate fra loro a questo proposito. Il padre si rivolgeva al figlio maggiore soltanto per prenderlo in giro, cosicché a poco a poco tra loro si creò una specie di ostilità. La madre, quando riceveva dal marito il denaro per le spese di casa, dava una certa somma al suo preferito. Ma l'appetito di questo aumentò con gli anni, soprattutto quando egli si mise a corteggiare le ragazze. Non aveva mai abbastanza denaro. Un giorno giunse perfino a rubare un braccialetto a sua madre e a venderlo per fare un regalo. Quando la madre scoprì il furto lo nascose al marito. Ma i furti si ripeterono, e un giorno il padre fece una grande scenata e cacciò il figlio fuori di casa. Più tardi gli altri membri della famiglia si unirono alla madre per perorare la sua causa, e il padre perdonò. no. Soloviev era in seconda liceo quando un circo di passaggio si fermò a Samarra. Una cavallerizza chiamata Verka gli fece perdere la testa, e quando il circo partì per Tsaritsin, Soloviev la seguì, dopo aver sottratto alla madre tutti i suoi risparmi. A quei tempi egli aveva già cominciato a bere. A Tsaritsin, venuto a sapere che la sua Verka lo tradiva con un capitano della gendarmeria, Soloviev si ubriacò per dimenticare il suo dolore. Si mise presto a frequentare tutte le taverne del porto e si fece numerosi compagni fra i ragazzi del suo stampo. Alla fine, un giorno che era sbronzo, lo derubarono di tutto. Si ritrovò senza un soldo in quella città straniera, e non osò neppure farlo sapere ai suoi genitori. Dopo aver venduto a poco a poco gli oggetti personali e i vestiti, si ridusse a scambiare ciò che indossava con dei cenci, e divenne uno straccione nel senso letterale della parola. La fame lo costrinse a farsi assumere in una pescheria, e di impiego in impiego, egli si ritrovò a Baco in compagnia di poveri diavoli come lui. In quella città la sorte gli arrise un po'. Qualcuno lo rivestì, ed egli ebbe la fortuna di essere assunto come telefonista nel distretto di Balakna. La miseria che aveva appena conosciuto lo aveva costretto a riflettere, ed egli si mise seriamente al lavoro. Un giorno incontrò qualcuno di Samarra, e quel concittadino, venuto a sapere chi egli fosse e da quale famiglia provenisse, decise di appoggiarlo e di aiutarlo a farsi una posizione migliore. Siccome Soloviev aveva un'istruzione corrispondente alla seconda classe, ebbe un posto di assistente alle poste e telegrafi di Baco, ma per i primi mesi dovette lavorare senza stipendio. In seguito ottenne un impiego a Cusca e vi si insediò, questa volta in qualità di funzionario titolare. Risparmiando su tutto, riuscì a vestirsi e a mettere un po' di denaro da parte. Quando ebbe 21 anni, ricevette dal Ministero della guerra una nota che lo avvertiva che stava per essere chiamato sotto le armi e fu costretto a tornare nella sua città natale. Giunto a Samarra, prese alloggio all'albergo e scrisse a sua madre. Questa fu felice che suo figlio sembrasse ravvedersi e riuscì a ottenere per lui il perdono del padre. La casa gli fu di nuovo aperta. Il padre, vedendo che suo figlio era diventato ragionevole, si dimostrò contento che tutto fosse finito in questo modo, e da allora lo trattò con benevolenza. Il nome di Soloviev venne estratto a sorte. Era abile al servizio. Ma, nella sua qualità di impiegato alle poste, dovette aspettare vari mesi per avere precisazioni sul posto assegnatogli, perché era telegrafista e le reclute di questa categoria venivano destinate a posti vacanti dall'amministrazione centrale dell'esercito. Egli rimase altri tre o quattro mesi presso i suoi genitori. Poi fu assegnato al battaglione della ferrovia che serviva alla regione trans-caspiana, e che a quei tempi dipendeva ancora dall'esercito. Dapprima fece varie settimane al servizio obbligatorio nel secondo reggimento. Poi fu destinato alla linea di Cusca, ma ebbe l'itterizia, e fu trasportato all'ospedale di Merv, dove era acquartirato il suo battaglione. Una volta guarito, Soloviev fu trasferito a Samarkanda, presso lo stato maggiore del reggimento, da dove venne mandato all'ospedale militare per farsi rilasciare un certificato di attitudine al servizio. Nell'ospedale dove alloggiava Soloviev c'era un padiglione per i detenuti. Nel percorrere i corridoi, a volte, parlava con i carcerati attraverso le sbarre. Così fece la conoscenza di uno di essi, un polacco condannato come falsario. Soloviev fu riformato per motivi di salute e autorizzato a lasciare l'ospedale. Il detenuto gli chiese allora di incaricarsi di una lettera per un amico che viveva vicino alla stazione di Samarkanda, e a mo' di ringraziamento gli mise in mano un flacone pieno di un liquido color azzurro cielo, spiegandogli che questo liquido serviva a copiare le banconote da tre rubli a esclusione di tutte le altre. Si procedeva nel modo seguente. Una carta speciale in tinte in quel liquido veniva applicata sui due lati della banconota, poi il tutto veniva pressato in un libro. Si otteneva così un negativo di ogni lato del biglietto dal quale si potevano tirare da tre a quattro buone copie. In Asia centrale, dove il denaro russo è poco conosciuto, queste banconote si smerciavano molto facilmente. In un primo tempo Soloviev provò il procedimento per pura curiosità, ma quando volle tornare in patria, ebbe bisogno di denaro prima della partenza e spacciò senza grandi rischi una piccola quantità di queste banconote false. A casa venne accolto con gioia e suo padre volle persuaderlo a rimanergli accanto per aiutarlo, come faceva il fratello minore. Soloviev accettò, gli venne quindi affidata la direzione di un mulino da qualche parte a Samarra, ma dopo avervi lavorato per alcuni mesi, egli ne ebbe abbastanza e cominciò a rimpiangere la sua vita nomade. Andò a trovare il padre e gli disse con franchezza che non poteva più continuare. Suo padre lo lasciò andare e gli diede perfino una somma di denaro piuttosto considerevole. Allora Soloviev si recò a Mosca, poi a Pietroburgo, si mise di nuovo a bere e finalmente con un colpo di testa da ubriacone partì per Varsavia. Egli era stato esentato dal servizio militare per un anno. Quell'anno stava volgendo al termine. A Varsavia qualcuno lo fermò per strada. Era il carcerato che aveva conosciuto all'ospedale di Samarkand. Era stato assolto dal tribunale, diceva, e tornato a Varsavia per procurarsi della carta speciale e aspettare una macchina per stampare le banconote che doveva essergli spedita dalla Germania. Gli chiese di diventare suo socio e di aiutarlo nel suo lavoro a Bukhara. Questa fonte di guadagno, criminale ma facile, tentò Soloviev. Mentre aspettava il suo compagno, egli andò a stabilirsi a Bukhara, ma il falsario polacco, che non aveva ancora ricevuto la macchina, era costretto a trattenersi a Varsavia. Soloviev si ubriacava sempre più spesso. Quando ebbe esaurito le sue ultime risorse, entrò nelle ferrovie e vi lavorò per i tre mesi che precedettero il nostro incontro. Beveva di continuo. Il racconto sincero di Soloviev mi toccò profondamente. In quel periodo conoscevo già molto bene l'ipnotismo ed ero capace di mettere un uomo nello stato necessario per portarlo a dimenticare per suggestione qualsiasi abitudine indesiderabile. Proposi dunque a Soloviev di aiutarlo, se lo desiderava veramente, a liberarsi dall'abitudine funesta di bere vodka e gli spiegai come avrei fatto. Egli accettò. A partire dall'indomani lo misi ogni giorno in stato di ipnosi per sottoporlo alle suggestioni necessarie. A poco a poco provò allora una tale repulsione per la vodka che, come diceva, non poteva neanche più vedere quel veleno. Rinunciando al suo lavoro alle ferrovie si installò definitivamente in casa mia. Mi aiutava a confezionare i fiori artificiali e a volte andava a venderli al mercato. Soloviev era diventato il mio assistente ed eravamo già abituati a vivere insieme come due buoni fratelli quando il mio amico, il derviscio Bogaeddin, di cui non avevo notizie da due o tre mesi, finalmente tornò. Quando seppe che abitavo nella nuova Bukhara, venne a trovarmi l'indomani stesso. Siccome lo interrogai sui motivi per i quali la sua assenza era stata così lunga, Bogaeddin mi rispose «Se sono stato assente così a lungo è perché il caso mi ha fatto incontrare, in una delle città dell'Alto Bukhara, un essere molto interessante, e per avere più spesso l'occasione di vederlo e di parlare con lui dei problemi che mi tormentavano, ho fatto in modo di fargli da guida durante un viaggio che egli intraprese nell'Alto Bukhara e sulle rive della Mudaria. Sono venuto qui con lui. Questo vecchio, continuò Bogaeddin, è membro di una confraternita sconosciuta fra i dervisci con il nome di Sarmun, il cui monastero principale si trova da qualche parte nel centro dell'Asia. Durante una delle mie conversazioni con questo essere straordinario ho scoperto che egli sapeva benissimo chi tu fossi, e gli ho chiesto se avesse avuto qualcosa in contrario se tu fossi andato a trovarlo? Alla mia domanda, egli ha risposto che sarebbe anzi felice di riceverti. Te, un uomo che, pur essendo nato kafir, aveva saputo acquistare, con un atteggiamento imparziale verso tutti gli esseri, un'anima simile alla nostra. Laggiù vengono chiamati kafir tutti gli stranieri di credenze diverse, in modo particolare tutti gli europei che si pensa vivono come bestie senza principi e per i quali interiormente non c'è nulla di sacro. Tutto ciò che Bogaeddin mi disse su questo vecchio mi mise il cervello sotto sopra, e lo supplicai di farmelo incontrare al più presto. Egli acconsentì subito, e siccome il vecchio viveva non lontano da lì, presso amici di Cholwuzk, nei pressi di Nuova Bukhara, decidemmo di andarci l'indomani stesso. Ebbi alcune lunghe conversazioni con questo vecchio. Durante un ultimo colloquio, egli mi consigliò di andare a vivere per un certo periodo nel suo monastero. Forse, mi spiegò, laggiù riuscirai a parlare con alcune persone delle questioni che ti interessano e forse finirai così per capire che cosa cerchi. Aggiunse che se avessi voluto andarci, egli mi avrebbe aiutato e avrebbe trovato le guide necessarie, ma a condizione che giurassi solennemente di non rivelare mai a nessuno il luogo dove era situato quel monastero. Naturalmente accettai tutte le condizioni, ma mi rincresceva a lasciare Soloviev al quale mi ero molto attaccato, così che mi azzardai a chiedere se non fosse possibile portare con me in questo viaggio un mio buono amico. Il vecchio riflette e mi disse, ebbene sì, puoi, purché, ben inteso, ti faccia garante della sua lealtà e della sua fedeltà al giuramento che dovrà prestare anche lui. Potevo rispondere di Soloviev con tutta fiducia, perché durante la nostra amicizia egli mi aveva provato di saper mantenere la parola data. Dopo aver considerato ogni cosa, fu deciso che ci saremmo trovati un mese più tardi, non un giorno di più, non un giorno di meno, sulle rive del fiume Amudaria, vicino alle rovine di Yeni Isar. Sarebbero venuti a prenderci delle persone che avremmo riconosciuto per mezzo di una parola d'ordine e ci avrebbero fatto da guida fino al monastero. Alla data fissata arrivammo, Soloviev e io, davanti alle rovine della fortezza di Yeni Isar, e il giorno stesso vi fummo raggiunti da quattro cara ghirghizzi che ci avevano mandato incontro. Dopo il consueto cerimoniale mangiammo insieme. All'imbrunire pretesero che ripetessimo il giuramento già fatto, ci misero un baschlik sugli occhi e ci hissarono in sella. Dopodiché partimmo. Per tutto il viaggio, fedelmente e coscienziosamente, mantenemmo la parola data di non guardare, di non cercare di sapere dove stessimo andando, né che luoghi stessimo attraversando. Di notte, nei paesi montani, o a volte anche quando mangiavamo in posti solitari, veniva slegato il baschlik che ci copriva gli occhi. A parte questo, due volte soltanto durante il viaggio ci fu permesso di toglierlo. La prima volta era l'ottavo giorno. Dovevamo varcare un ponte sospeso che non si poteva percorrere a cavallo ed era troppo stretto perché due uomini lo attraversassero affiancati. Bisognava camminare da soli ed era impossibile farlo con gli occhi bendati. Dalle caratteristiche del paesaggio che si offriva ai nostri occhi avremmo potuto dedurre che ci trovavamo o nella valletta del Pani oppure in quella dello Gerafzau, l'ampio fiume che scorreva sotto di noi. Il ponte, le montagne che ci circondavano, tutto ricordava molto quelle due vallate. Devo dire d'altronde che sarebbe stato forse meglio per noi se avessimo potuto fare la traversata con gli occhi bendati. Forse perché avevamo camminato a lungo con gli occhi chiusi, forse per qualche altro motivo. Il fatto è che mai dimenticherò il nervosismo e la paura che provammo quando ci inoltrammo su quel ponte. Ci volle perfino un tempo prima che ci risolvessimo a farlo. Nel Turkestan si incontrano spesso delle passerelle di questo genere. A volte esse rappresentano l'unica via possibile, a meno di fare una deviazione di venti giorni per procedere appena di un chilometro. Quando ci si regge su uno di questi ponti e si guarda il fondo della gola dove in genere scorre un fiume, si può paragonare questa sensazione a quella che si prova dall'alto della torre Eiffel. Ma l'impressione è molto più intensa se ci si volge verso l'alto, perché le pareti sembrano senza fine e la loro sommità è visibile soltanto da lontano, da vari chilometri di distanza. Questi ponti non hanno quasi mai parapetto e sono così stretti che soltanto un cavallo di montagna può passarci. Inoltre essi oscillano a tal punto che si ha l'impressione di camminare su un materasso a molle. Quanto all'incertezza che si prova circa la loro solidità, preferisco non parlarne. Sono quasi sempre sostenuti da corde fatte di liane. Una delle estremità regge la passerella, l'altra è attaccata a qualche albero molto vicino, abbarbicato al fianco della montagna o a qualche sporgenza della roccia. In ogni modo questi ponti non sono da raccomandarsi agli europei, neanche a quelli che si vantano di amare le sensazioni violente. Chi fra loro volesse arrischiarvisi si sentirebbe cadere il cuore nei talloni, o forse ancora più giù. La seconda volta che ci tolsero il baschlick fu quando incrociamo una carovana. Le guide, non volendo attirare l'attenzione sulle nostre bende, che sarebbero potute sembrare sospette, trovarono preferibile togliercele per tutta la durata dell'incontro. Ciò accadde proprio nel momento in cui passavamo davanti a uno di quei monumenti che si trovano così spesso nelle montagne del Turkestan, sopra le gole. Questi monumenti debbono essere stati inventati da qualcuno molto sensato, perché, senza di essi, i viaggiatori non avrebbero la possibilità di orientarsi in quelle regioni caotiche. Per lo più essi si ergono su un'altura, e se si conosce il piano generale delle loro rispettive posizioni, si possono distinguere da molto lontano, a volte perfino da decine di chilometri. Essi constano semplicemente di grandi blocchi di pietra o di lunghi pali di legno conficcati nel terreno. Laggiù esistono tra il popolo credenze di ogni genere a proposito di questi monumenti. Per esempio che in quel luogo un santo sia stato seppellito o rapito al cielo da vivo, oppure che vi abbia ucciso il drago dalle sette teste o compiuto qualche prodigio. Di solito, il santo, in onore del quale il monumento è stato innalzato, è considerato il patrono di tutta la regione, e gli vengono ascritte tutte le vittorie riportate sulle difficoltà proprie a quei luoghi. Tutto viene attribuito alla protezione del santo. Che il viaggiatore abbia felicemente valicato il passo, che sia sfuggito agli attacchi dei briganti o degli animali selvatici, che abbia attraversato il fiume o scansato un qualsiasi pericolo in quel luogo. Perciò i commercianti, i pellegrini o i semplici viaggiatori che hanno superato questi pericoli portano qualche offerta al monumento in segno di riconoscenza. Fra la gente del posto si è stabilita l'usanza di scegliere come offerta qualcosa che, secondo le credenze di laggiù, possa ricordare automaticamente al santo le preghiere del donatore. Per esempio, essi offrono un pezzo di stoffa, la coda di un animale o altri oggetti dello stesso genere, attaccati o fissati al monumento per un'estremità, mentre l'altra si agita libera al vento. Per tutti i viaggiatori, questi oggetti sventolanti indicano da molto lontano la strada da seguire. In effetti, per chi conosca approssimativamente la posizione di questi pali o di questi blocchi di pietra, basta scorgerne uno dall'alto di una collina e camminare nella sua direzione, poi da lì verso un altro, e così via. Se non si conosce il quadro di insieme di questi monumenti, è quasi impossibile viaggiare attraverso quei paesi. Non ci sono strade, non ci sono sentieri, e se per caso si viene a formare una pista, i cambiamenti repentini di temperatura e le tempeste di neve da esci provocati fanno presto a modificarla o addirittura a cancellarla completamente. In mancanza di punti di riferimento, il viaggiatore alla ricerca di una via comoda finirebbe per confondersi del tutto e neppure le bussole più precise potrebbero essergli del minimo aiuto. In breve, in queste regioni, è possibile viaggiare soltanto se si stabilisce l'itinerario di monumento in monumento. Per strada cambiamo varie volte i cavalli e gli asini. Di tanto in tanto andavamo a piedi. Più di una volta dovemmo attraversare fiumi a nuoto e valicare montagne. Secondo la sensazione di freddo o di caldo ci accorgevamo che a volte scendevamo in vallate profonde, a volte salivamo molto in alto. Infine, nella serata del dodicesimo giorno, ci tolsero le bende dagli occhi. Ci trovammo in una stretta vallata, in fondo alla quale scorreva un fiumiciatolo le cui sponde erano ricoperte di una ricca vegetazione. Era la nostra ultima tappa. Dopo aver mangiato ci rimettemmo in cammino, ma questa volta a occhi scoperti. Risalimmo a dorso d'asino il corso del fiume e dopo una mezz'ora apparve ai nostri occhi una piccola collina in una cerchia di alte montagne. Sulla nostra destra, di fronte a noi e anche un po' sulla sinistra, si stagliavano delle vette nevose. Varcata la collina la prima svolta, scorgemmo in lontananza sul pendio della nostra sinistra alcune costruzioni. Nell'avvicinarci ci fu possibile riconoscere una specie di edificio fortificato come se ne possono incontrare sulle sponde della mudaria o del pani, ma più grande. Queste costruzioni erano circondate da alte mura. Raggiungemmo finalmente la prima porta dove fummo ricevuti da una vecchia alla quale le nostre guide trasmisero un messaggio, dopodiché scomparvero dalla stessa porta. Restammo soli con la vecchia. Senza fretta, essa ci condusse in una delle stanze simili a celle che erano disposte intorno a un cortiletto. Ci indicò i due lettini che vi si trovavano e uscì. Presto un venerabile vegliardo venne a raggiungerci. Non ci fece nessuna domanda, ma ci parlò molto gentilmente in turco, come se fossimo vecchi amici. Ci mostrò ogni cosa e ci disse che per i primi tempi ci avrebbero portato ai nostri pasti. Andandosene ci consigliò di riposare, ma aggiunse che, se non eravamo stanchi, potevamo uscire e passeggiare nei dintorni. Ci fece insomma capire che eravamo liberi di vivere come meglio credevamo. Siccome ci sentivamo veramente molto stanchi per il viaggio, preferimmo riposarci un poco e ci mettemmo a letto. Io dormii come un sasso e fu svegliato da un ragazzo che bussava per portarci il samovar col tè verde e il pasto del mattino che consisteva in focacce di grano turco calde con formaggio di pecora e miele. Volevo chiedere al ragazzo di indicarmi un posto dove si potesse fare il bagno. Purtroppo egli parlava soltanto l'obscenzi e io non conoscevo una sola parola di quella lingua, tranne alcune ingiurie. Soloviev era uscito. Tornò dopo dieci minuti. Anche egli aveva dormito profondamente, si era svegliato a notte inoltrata e non volendo disturbare nessuno era rimasto tranquillamente a letto a ripetere delle parole tibetane. Al sorgere del sole era uscito per vedere i dintorni, ma quando aveva voluto varcare la soglia una vecchia lo aveva chiamato e gli aveva fatto cenno di entrare in una casetta situata in un angolo del cortile. Egli pensava che gli avrebbe proibito di uscire, ma quando entrò nella casa capì che la buona vecchia voleva soltanto offrirgli del latte appena monto. Dopo avergli dato da bere lo aiutò perfino ad aprire il portale. Poiché nessuno veniva a trovarci, dopo il tè decidemmo di andare a passeggiare e di esplorare i dintorni. Prima costeggiammo le alte mura che circondavano la fortezza. Oltre alla porta dalla quale eravamo entrati ce n'era un'altra, più piccola, dal lato nord-ovest. Dovunque regnava un silenzio quasi terrificante, interrotto dal rumore monotono di una lontana cascata e a volte dal grido degli uccelli. Era una calda giornata d'estate, l'aria era soffocante, non si aveva voglia di nulla, il paesaggio grandioso che ci circondava non ci interessava, soltanto il rumore della cascata ci attirava, ci stregava. Senza esserci scambiati una parola, solo Vief e io ci avviamo alla cascata che divenne in seguito il nostro posto preferito. Nessuno venne a trovarci né quel giorno né il seguente, ma tre volte al dì ci portavano da mangiare dei latticini, della frutta secca, del pesce, trote maculate, e il Samovar ci veniva cambiato quasi ogni ora. A volte stavamo distesi sui nostri letti, a volte uscivamo e andavamo a imparare delle parole tibetane al suono monotono della cascata. Durante quei due giorni non incontrammo nessuno né per strada né alla cascata. Una sola volta, mentre eravamo seduti sul bordo dell'acqua, passarono quattro fanciulle che volsero i tacchi non appena ci videro e sparirono dalla porticina che avevamo notata sul lato nord-ovest. La mattina del terzo giorno ero seduto in un angolo all'ombra e Soloviev, per ammazzare la noia, si era messo a stabilire, mediante pezzettini di legno che aveva appena tagliati per questo scopo, l'altezza delle vette coperte di neve che stavano di fronte a noi, quando, improvvisamente, vedemmo accorrere il ragazzo che ci aveva portato il nostro primo pasto. Porse a Soloviev un foglio di carta piegato, senza busta. Soloviev lo prese, e leggendo l'indirizzo Aga Georgi, scritto in lettere sarte, me lo porse con stupore. Quando spiegai il foglio e riconobbi la calligrafia, la mia vista si annebbiò, tanto la cosa era inaspettata. Questa calligrafia, che conoscevo bene, era quella dell'uomo che più di tutti mi fu caro nella vita, il principe Lubovetsky. Il messaggio era scritto in rosso e diceva così. «Mio caro figliuolo, ho creduto di svenire quando mi hanno detto che ti trovavi qui. Sono spiacente di non poter venire immediatamente a stringerti fra le mie braccia. Devo aspettare che sia tu a venire da me. Sono a letto. In tutti questi giorni non sono uscito e non ho parlato con nessuno. Soltanto ora ho saputo del tuo arrivo. Quanto sono felice al pensiero che fra poco ti rivedrò. Sono doppiamente felice perché il fatto che tu sia venuto di tua volontà senza il mio aiuto né quello dei nostri comuni amici, lo avrei saputo, mi dimostra che durante tutto questo tempo non sei stato con le mani in mano. Vieni presto. Parleremo di tutto. So che sei qui con un compagno? Benché non lo conosca, sarò felice di abbracciarlo come tuo amico. Avevo appena finito di leggere che mi precipitai fuori, facendo cenno a Soloviev di seguirmi. Correvo senza sapere dove, leggendo la lettera al volo. Dietro di me correvano Soloviev e il ragazzo. Quest'ultimo, dopo aver attraversato il cortile dove abitavamo, ci condusse in un secondo cortile e ci fece entrare in una cella dove era sdraiato il principe. Dopo esserci abbracciati e aver dato il libero sfogo alla nostra gioia, chiesi al principe come si fosse ammalato. Prima, mi disse, stavo molto bene. Due settimane fa, dopo aver fatto il bagno, ho voluto tagliarmi le unghie dei piedi. È probabile che, senza rendermene conto, le abbia tagliate troppo corte e, siccome di solito cammino scalzo, mi sono infettato e ho cominciato a soffrire. In un primo tempo non ci ho fatto caso. Pensavo che sarebbe passata, ma il male peggiorava di giorno in giorno. Infine, la settimana scorsa si è aperto un ascesso, accompagnato da febbre e da delirio crescenti. Mi hanno costretto a mettermi a letto. I frati dicono che ho avuto un avvelenamento del sangue e che adesso ogni pericolo è scomparso. Del resto mi sento bene. Ma basta parlare di me. Presto sarò guarito. Raccontami piuttosto come sei giunto fin qui, per quale miracolo. Gli raccontai brevemente la mia vita durante i due anni in cui non c'eravamo visti. Gli incontri casuali che avevo fatto, la mia amicizia con il derviscio Boga e Din, le avventure che ne erano derivate e come, per finire, mi trovavo lì. Poi gli chiesi perché fosse scomparso così bruscamente e non avesse dato sue notizie neppure una volta, lasciandomi soffrire nell'incertezza finché non mi ero rassegnato, con il cuore pieno di amarezza, l'idea di averlo perduto per sempre. E gli raccontai come, senza badare a spese, avessi fatto dire a ogni buon conto una messa in suo suffraggio senza essere troppo convinto della sua efficacia, ma pensando che forse poteva servirgli. Gli chiesi a mia volta come fosse giunto in quel monastero e il principe mi rispose «Al tempo del nostro ultimo incontro a Costantinopoli ero in preda a un'immensa stanchezza interiore, una specie di profonda apatia. Durante il mio viaggio a Ceylon e durante i diciotto mesi che seguirono, questa stanchezza interiore si trasformò a poco a poco in un tetro sconforto che lasciò un grande vuoto dentro di me e mi distaccò da tutti gli interessi che mi legavano alla vita. Quando arrivai a Ceylon feci la conoscenza del celebre monaco buddista. Ah, ci parlammo spesso, con grande sincerità, e il risultato fu che organizzai con lui una spedizione per risalire il corso dell'Indo seguendo un programma minuziosamente fissato e un itinerario studiato nei minimi particolari con la speranza di riuscire finalmente a risolvere i problemi che ci preoccupavano entrambi. Per me personalmente questo tentativo era l'ultimo ramoscello al quale ancora mi aggrappavo e quando vedi che questo viaggio, una volta di più, non era che l'insegnamento di un miraggio, tutto morì per sempre in me e non vogli più intraprendere nulla. Dopo questa spedizione tornai per caso a Kabul dove mi abbandonai incondizionatamente all'indolenza orientale, esistendo senza scopo, senza interessi, accontentandomi per abitudine automatica di ritrovare vecchie conoscenze o di incontrare alcune persone nuove. Andavo spesso dal mio vecchio amico, l'Aga Khan. I ricevimenti a casa di un uomo così ricco di avventure ridavano un po' di sapore alla vita noiosa di Kabul. Un giorno, arrivando a casa sua, vidi fra gli invitati, seduto al posto d'onore, un vecchio tamil vestito in modo non molto adatto alla casa dell'Aga Khan. Dopo avermi dato il benvenuto, il Khan, vedendo la mia perplessità, mi bisbigliò in tutta fretta che quell'uomo rispettabile era un suo vecchio amico, un originale, nei riguardi del quale sentiva una profonda riconoscenza, e che una volta gli aveva perfino salvato la vita. Mi disse che il vecchio viveva da qualche parte nel Lord, ma a volte veniva a Kabul sia per vedere i suoi parenti, sia per qualche altra faccenda, e ogni volta lo andava a trovare. Ciò che per lui, l'Aga Khan, era sempre una gioia indescrivibile perché non aveva mai incontrato un uomo di una tale bontà. Mi consigliò di parlare con lui aggiungendo che in questo caso dovevo alzare la voce perché era duro d'orecchi. La conversazione, interrotta per un momento dal mio arrivo, riprese. Si parlava di cavalli. Il vecchio partecipava anche egli alla discussione. Era chiaro che si intendeva di cavalli e che un tempo ne era stato un appassionato conoscitore. Si passò poi alla politica. Si parlò dei paesi vicini, della Russia, dell'Inghilterra. E quando si nominò la Russia, l'Aga Khan indicandomi disse amabilmente «Vi prego, non parlate male della Russia. Potreste offendere il nostro ospite russo». Si trattava di una frase scherzosa, ma era evidente il desiderio del Khan di prevenire un attacco quasi inevitabile contro i russi. In quel periodo laggiù imperava un odio generale contro i russi e gli inglesi. Poi la conversazione languì e ci mettemmo a discutere divisi in piccoli gruppi. Io mi intrattenevo col vecchio che mi stava diventando sempre più simpatico. Parlando con me nella mia lingua locale, egli mi chiese da dove venivo e se mi trovavo a Kabul da molto tempo. Improvvisamente si mise a parlare russo con un forte accento, ma molto correttamente. Mi spiegò che era stato in Russia, a Mosca, a Pietroburgo, e che era vissuto a lungo a Bukhara, dove aveva frequentato molti russi. Aveva così imparato la lingua. Aggiunse che era molto felice di avere l'occasione di parlare russo perché, per mancanza di pratica, stava cominciando a dimenticare tutto. Un poco più tardi egli mi disse che se mi avesse fatto piacere parlare la mia lingua natale ci saremmo potuti accomiatare insieme e forse gli avrei fatto l'onore, a lui, uomo vecchio, di andarmi a sedere in sua compagnia in un giai canè, dove avremmo potuto discutere. Mi spiegò che sin dall'infanzia aveva l'abitudine e la debolezza di andare nei caffè nei giai canè e che ora, quando era in città, non poteva rinunciare al piacere di recarvisi nei ritagli di tempo perché mi disse, nonostante il rumore e la confusione, da nessun'altra parte si pensa così bene. E aggiunse, forse è proprio per questo rumore e questa confusione che si pensa così bene. Accettai con grande piacere di accompagnarlo, naturalmente non per parlare russo ma per un motivo che non mi sapevo spiegare. Già vecchio io stesso provavo per quest'uomo ciò che un nipotino avrebbe provato per un nonno amatissimo. Presto gli invitati cominciarono ad andarsene, così facemmo anche il vecchio io parlando per strada di mille cose. Giunti al caffè ci sedemmo in un angolo, in una terrazza all'aperto, dove ci venne servito del tè verde di Bukhara. Dalle attenzioni e dalle premure di cui era oggetto il vecchio del giai canè si vedeva quanto vi fosse conosciuto e stimato. Il vecchio portò la conversazione sui tagicchi, ma dopo la prima tazza di tè si interruppe e disse, non parliamo che di cose futili, non è di questo che si tratta. E dopo avermi guardato fisso distolse lo sguardo e tacque. Tutto mi parve strano. Il fatto che avesse così interrotto la nostra conversazione, le ultime parole che aveva pronunciate, lo sguardo penetrante che mi aveva gettato. Mi dicevo, povero uomo, probabilmente il suo pensiero è già indebolito dall'età ed egli vaneggia. E fui mosso a compassione per quel simpatico vecchio. Tale sentimento di pietà si rivolse a poco a poco verso me stesso. Pensavo che presto anch'io avrei cominciato a farneticare, che non era lontano il giorno in cui non avrei più potuto controllare i miei pensieri e così via. Ero talmente assorto nel penoso vortice di tali riflessioni che avevo perfino dimenticato il vecchio. Improvvisamente sentii di nuovo la sua voce. Le parole che pronunciò dissiparono di colpo i miei tetri pensieri e mi costrinsero a uscire dallo stato in cui mi trovavo. La mia pietà fece posto a uno stupore quale non avevo mai provato. Eh, gogo, gogo, per 45 anni hai fatto degli sforzi, ti sei tormentato, hai faticato senza sosta, e neppure una volta sola hai potuto decidere a lavorare in modo tale che, non fosse che per qualche mese, il desiderio del tuo cervello diventasse il desiderio del tuo cuore. Se tu ci fossi riuscito, non trascorreresti la tua vecchiaia nella solitudine in cui ti trovi in questo momento. Questo nome, gogo, che egli aveva pronunciato all'inizio, mi aveva fatto sussultare per la sorpresa. Come poteva mai questo hindù che mi vedeva qui per la prima volta in Asia centrale conoscere questo soprannome che soltanto mia madre e la mia balia mi davano nella mia infanzia, 60 anni prima, e che mai nessuno da allora aveva ripetuto. Puoi immaginarti la mia sorpresa. Mi ricordai subito che, dopo la morte di mia moglie, quando ero ancora molto giovane, un vecchio era venuto a trovarmi a Mosca. Mi chiedevo se non fosse lo stesso misterioso vecchio. Ma no, prima di tutto l'altro era alto e non gli rassomigliava. Poi non doveva più essere in vita da molto tempo. La cosa era successa 41 anni addietro e già allora egli era molto vecchio. Non riuscivo a trovare nessuna spiegazione per il fatto che, con ogni evidenza, non soltanto quest'uomo mi conosceva, ma non ignorava nulla del mio stato interiore di cui ero l'unico ad avere coscienza. Mentre tutti questi pensieri si susseguivano dentro di me, il vecchio era emerso in riflessioni profonde e trasalì quando, dopo aver finalmente ritrovato le forze, io esclamai «Chi è lei dunque per conoscermi così bene? Che cosa ti importa in questo momento chi sono e che cosa sono? È mai possibile che sia ancora così viva in te quella curiosità che è una delle principali ragioni per cui non hai tratto nessun frutto dagli sforzi di tutta la tua vita? È mai possibile che essa sia ancora così forte da costringerti perfino in questo momento a dedicarti con tutto il tuo essere all'analisi di questo fatto? La conoscenza che io ho di te, con l'unico scopo di capire chi io sia e come ti abbia riconosciuto?» I rimproveri del vecchio mi toccarono nel punto più sensibile. «Sì, padre», dissi. «Hai ragione. Che cosa mi importa di ciò che succede al di fuori di me e di come succede? Ho assistito a molti miracoli, ma a che cosa mi è servito? So soltanto che in questo momento tutto è vuoto in me e che questo vuoto potrebbe non esserci se io non fossi in balia di quel nemico interiore, come tu l'hai chiamato, e se avessi consacrato il mio tempo non a soddisfare la mia curiosità per tutto ciò che succede al di fuori di me, ma a lottare contro di essa. «Sì, adesso è troppo tardi. Tutto ciò che succede al di fuori di me deve essermi oggi indifferente. Non voglio sapere nulla di ciò che ti ho chiesto e non voglio infastidirti oltre. Ti prego sinceramente di perdonarmi per il dispiacere che ti ho causato durante questi pochi minuti. Dopodiché rimanemmo a lungo seduti, ognuno assorto nei propri pensieri. Finalmente egli ruppe il silenzio. Forse non è troppo tardi. Se tu senti con tutto il tuo essere che in te tutto è realmente vuoto, ti consiglio di provare ancora una volta. Se tu senti molto vivamente e ti rendi conto senza il minimo dubbio che tutto ciò verso cui finora dirigevo i tuoi sforzi non è altro che un miraggio, e se tu accetti una condizione, cercherò di aiutarti. Questa condizione consiste nel dire addio coscientemente alla vita che hai condotto finora, cioè a rompere una volta per sempre con le abitudini automaticamente stabilite della tua vita esteriore per recarti nel posto che ti indicherò. In realtà, con che cosa mi rimaneva ancora da rompere? Questa non era neppure una condizione per me perché, tranne i rapporti che avevo con alcune persone, ai miei occhi non esisteva più alcun interesse al mondo. Quanto a questi rapporti, per vari motivi mi ero dovuto costringere a non pensarci più. Dichiarai che ero pronto a recarmi immediatamente ovunque fosse stato necessario. Egli si alzò, mi disse di liquidare tutti i miei affari e senza aggiungere una parola scomparve tra la folla. Sin dall'indomani sistemai tutto, diedi certi ordini, scrissi alcune lettere di affari nella mia patria e aspettai. Tre giorni dopo, un giovane Tajik venne a casa mia e mi disse brevemente «Sono stato scelto per farle da guida. Il viaggio durerà un mese. Ho preparato questo, questo e quest'altro. La prego di dirmi ciò che devo ancora preparare, quando vuole che raduni la carovana e in che luogo?». Non avevo bisogno di nient'altro, perché tutto era stato previsto per il viaggio e gli risposi che ero pronto a mettermi in cammino sin dall'indomani mattina. Quanto al punto di partenza, gli chiesi di stabilirlo egli stesso. Allora, egli mi disse, sempre altrettanto laconicamente, che si sarebbe trovato l'indomani alle sei di mattina al caravanserraglio Kalmatas, situato all'uscita della città nella direzione di Uzunkerpi. L'indomani ci mettemmo in cammino con una carovana che mi portò qui due settimane più tardi. E ciò che ho trovato qui lo vedrai tu stesso. Intanto raccontami piuttosto ciò che sai dei nostri comuni amici. Vedendo che questo racconto aveva stancato il mio vecchio amico, gli proposi di rimandare a più tardi la nostra conversazione. Egli dissi che gli avrei raccontato tutto con grande piacere, ma che per adesso egli doveva riposare per guarire al più presto. Finché il principe Lubovetsky fu costretto a stare a letto, andavamo a trovarlo nel secondo cortile. Ma non appena si sentì meglio e poteva uscire dalla sua cella, venne lui da noi. Ogni giorno parlavamo per due o tre ore. Continuamo così per due settimane. Un giorno fummo chiamati nella cinta del terzo cortile presso lo sceicco del monastero che ci parlò con l'aiuto di un interprete. Egli ci diede per istruttore uno dei monaci più anziani, un vecchio che sembrava un'icona e che a sentire gli altri frati aveva 275 anni. Da allora entrammo a far parte, per così dire, della vita del monastero. Siccome avevamo accesso quasi dovunque, venimmo per conoscere bene i luoghi. Nel mezzo del terzo cortile sorgeva una specie di grande tempio dove gli abitanti del secondo e del terzo cortile si riunivano due volte al giorno per assistere alle danze sacre delle grandi sacerdotesse o per ascoltare musica sacra. Quando il principe Lubovetsky fu completamente guarito, ci accompagnò dovunque e ci spiegò tutto. Per noi era come un secondo istruttore. Un giorno scriverò forse un libro apposta per raccontare tutti i particolari di questo monastero, ciò che esso rappresentava e ciò che vi succedeva. Intanto trovo necessario descrivere nel modo più particolareggiato possibile uno strano apparecchio che vidi laggiù, la cui struttura, quando la ebbi più o meno capita, produsse su di me un'impressione sconvolgente. Quando il principe Lubovetsky fu diventato il nostro secondo istruttore, egli chiese un giorno di sua iniziativa il permesso di condurci in un piccolo cortile laterale, il quarto, chiamato il cortile delle donne, per assistere alla lezione impartita alle allieve dalle sacerdotesse danzatrici che partecipavano ogni giorno alle danze sacre del tempio. Il principe, conoscendo l'interesse che provavo allora per le leggi che regolano i movimenti del corpo e dello psichismo umano, mi consigliò, mentre assistevamo alla lezione, di prestare una particolare attenzione agli apparecchi con l'aiuto dei quali le giovani asperanti studiavano la loro arte. Già dall'aspetto, questi strani apparecchi davano l'impressione di essere stati costruiti in tempi molto antichi. Erano di ebano, con applicazioni in avorio e madreperla. Quando non servivano e venivano riposti insieme, formavano una massa che ricordava l'albero Vezanelliano, dalle ramificazioni tutte simili. Guardandolo più da vicino, ognuno di questi apparecchi si presentava sotto forma di colonna liscia, più alta di un uomo, fissata su un treppiede. Da sette punti della colonna partivano dei bracci di forma peculiare. Questi bracci erano suddivisi in sette segmenti di diverse dimensioni. La loro lunghezza e la loro larghezza diminuivano in ragione diretta del loro allontanamento dalla colonna. Ogni segmento era collegato al successivo per mezzo di due sfere di avorio cave incastrate l'una nell'altra. La sfera esterna non ricopriva interamente quella interna. Ciò permetteva di fissare a quest'ultima una delle estremità di un segmento qualsiasi del braccio, mentre alla sfera esterna si poteva fissare l'estremità di un altro segmento. Questa specie di giunzione rassomigliava all'articolazione della spalla umana e permetteva ai sette segmenti di ogni braccio di muoversi nella direzione desiderata. Sulla sfera interna erano tracciati dei segni. Nella sala si trovavano tre di questi apparecchi. Vicino a ognuno di essi c'era un piccolo armadio pieno di piastre di metallo quadrate. Anche su queste piastre erano tracciati alcuni segni. Il principe Lubovetsky ci spiegò che queste placche erano riproduzioni di piastre in oro puro che si trovavano presso lo sceicco. Gli esperti facevano risalire l'origine di queste piastre e di questi apparecchi a circa 4.500 anni addietro. Il principe ci spiegò poi che, facendo corrispondere i segni tracciati sulle sfere a quelli delle piastre, le sfere assumevano una certa posizione che determinava a sua volta la posizione dei segmenti. Quando tutte le sfere sono disposte nel modo desiderato, la posa corrispondente a ogni combinazione si trova perfettamente definita nella sua forma e nella sua ampiezza, e le giovani sacerdotesse rimangono per ore davanti agli apparecchi così regolati per imparare a sentire questa posa e a ricordarsela. Occorrono lunghi anni prima che a queste future sacerdotesse sia permesso danzare nel Tempio. Soltanto le sacerdotesse che hanno raggiunto una certa età ed esperienza possono farlo. Tutti nel monastero conoscono l'alfabeto di queste pose, e la sera, quando le sacerdotesse danzano nella grande sala del Tempio, secondo il rituale proprio di quel giorno, i monaci leggono nelle pose da esse assunte delle verità che gli uomini vi hanno inserito alcune migliaia di anni fa. Queste danze adempiono a una funzione analoga a quella dei nostri libri. Come noi oggi facciamo sulla carta, così una volta certe informazioni relative ad avvenimenti trascorsi da molto tempo furono registrate in queste danze e tramandate di secolo in secolo agli uomini delle generazioni future. Queste danze furono chiamate danze sacre. Le fanciulle che diventano sacerdotesse sono per la maggior parte consacrate sin dalla più tenera età al servizio di Dio o di un santo per voto dei loro genitori o per altri motivi. Queste future sacerdotesse entrano nel Tempio sin dall'infanzia per ricevervi tutta l'istruzione e la preparazione necessarie, in modo particolare per quanto riguarda le danze sacre. Poco tempo dopo aver visto questa lezione per la prima volta, ebbi l'occasione di vedere danzare le vere sacerdotesse e rimasi stupito non dal significato delle danze che ancora non comprendevo, ma dall'esattezza esteriore e dalla precisione con le quali esse venivano eseguite. Né in Europa né in nessuno dei luoghi dove avevo osservato con interesse cosciente questa manifestazione umana automatizzata, mai avevo incontrato qualcosa di paragonabile a questa purezza di esecuzione. Vivevamo nel monastero da tre mesi e cominciavamo ad abituarci alle condizioni esistenti quando un giorno il principe venne da me con aria grave. Mi disse che quella stessa mattina lo avevano fatto chiamare presso lo sheikho dove aveva trovato alcuni dei monaci più anziani. Lo sheikho mi ha detto, aggiunse il principe, che non mi rimangono che tre anni di vita e che mi consiglia di passarli nel monastero Olman, situato sul versante nord dell'Himalaya, per meglio dedicare il tempo che mi resta alla ricerca di ciò che aveva costituito l'aspirazione di tutta la mia vita. Egli si è impegnato, se vi ha consentivo, a darmi tutte le istruzioni e le direttive necessarie e a sistemare tutto affinché il mio soggiorno laggiù sia realmente fruttuoso. Senza la minima esitazione ho immediatamente dato il mio consenso ed è stato deciso che sarei partito entro tre giorni, accompagnato da uomini qualificati. E voglio trascorrere questi ultimi giorni interamente con te, che per caso sei diventato l'essere a me più vicino in questa vita. Restai impietrito dalla sorpresa e fui a lungo incapace di pronunciare una sola parola. Quando tornai un poco in me gli chiesi soltanto «E' mai possibile che sia vero?» «Sì», rispose il principe, «non potrei fare nulla di meglio per impiegare il tempo che mi rimane. Forse potrò così recuperare quello che ho perso in modo tanto inutile e assurdo quando per molti anni ho avuto tante opportunità». Sarà meglio non parlarne più e consacrare invece questi tre giorni a qualcosa di più essenziale per il presente. Quanto a te, continuo a pensare che io sia morto da molto tempo. Non mi hai forse detto tu stesso al tuo arrivo che avevi fatto celebrare una messa in mio soffraggio e che ti eri a poco a poco rassegnato all'idea di avermi perduto. E adesso, come per caso ci siamo ritrovati, così per caso ci separeremo senza tristezza. Forse non era difficile per il principe parlare di tutto ciò con tanta serenità, ma per me era molto duro rendermi conto che stavo per perdere, e questa volta per sempre, l'uomo a me più caro. Trascorremmo quei tre giorni senza mai lasciarci e parlammo di ogni genere di argomenti, ma il mio cuore era greve, soprattutto quando il principe sorrideva. A questa vista la mia anima era straziata perché il suo sorriso era per me il segno della sua bontà, del suo amore e della sua pazienza. Finalmente, quando i tre giorni furono trascorsi, una mattina molto triste per me aiutai io stesso a caricare la carovana che doveva sottrarmi per sempre quest'uomo così buono. Egli mi chiese di non accompagnarlo. La carovana si mise in cammino. Prima di scomparire dietro la montagna, il principe si voltò, mi guardò e mi benedisse per tre volte. Pace all'anima tua, santo uomo, principe Iuri Lubovecki. Adesso, per concludere questo capitolo consacrato al principe Iuri Lubovecki, voglio descrivere addentrandomi nei particolari la morte tragica di Soloviev, che avvenne in circostanze eccezionali. La morte di Soloviev. Poco tempo dopo il nostro soggiorno nel monastero principale della confraternita Sarmun, Soloviev entrò a far parte del gruppo dei cercatori di verità. Come esigeva la regola, mi ero fatto garante per lui. Una volta ammesso come membro di questo gruppo, egli si mise a lavorare al proprio perfezionamento con la stessa coscienza e la stessa perseveranza che impiegava nel partecipare a tutte le attività generali del gruppo. Prese parte attiva ad alcune delle nostre spedizioni e proprio durante una di queste spedizioni, nell'anno 1898, egli morì per il morso di un cammello selvatico, nel deserto di Gobi. Racconterò questo avvenimento in tutti i particolari, non soltanto perché la morte di Soloviev fu molto strana, ma anche perché il nostro modo di spostarci nel deserto di Gobi era senza precedenti, e la sua descrizione sarà molto istruttiva per il lettore. Comincerò il mio racconto nel momento in cui, dopo aver lasciato Tashkent, risalito con grandi difficoltà il corso del fiume Ciarciandaria e valicato vari passi di montagna, giungemmo a F, piccola località sul limitare delle sabbie del deserto di Gobi. Nella maggior parte dei loro racconti si affermava che sotto le sabbie dell'attuale deserto erano sepolti villaggi e perfino intere città con innumerevoli tesori e ricchezze appartenuti ai popoli che avevano abitato la regione un tempo prospera. Il luogo dove erano situate queste ricchezze, dicevano, era conosciuto da alcuni uomini dei villaggi vicini. Era un segreto che ci si tramandava di padre in figlio sotto il vincolo del giuramento e chiunque violasse questo giuramento doveva subire un castigo speciale proporzionato alla gravità del tradimento, cosa che già molti avevano sperimentato. Durante queste conversazioni più di una volta si fece allusione a una certa regione del deserto di Gobi dove, secondo molte persone, era sepolta una grande città. Una quantità di indizi strani, tra i quali poteva esservi un nesso logico, interessarono molto seriamente alcuni di noi, e soprattutto il professore di archeologia Skridlov. Dopo averne discusso a lungo fra noi, decidemmo di attraversare il deserto di Gobi passando attraverso la regione dove, secondo tutti questi indizi, doveva trovarsi la città sepolta sotto la sabbia. Avevamo infatti l'intenzione di intraprendervi comunque degli scavi sotto la direzione del vecchio professore Skridlov, grande specialista in materia. Stabilimmo il nostro itinerario secondo questo piano. Benché la regione non fosse vicina a nessuna delle piste più o meno conosciute che attraversano il deserto di Gobi, decidemmo di attenerci a uno dei nostri vecchi principi. Non passare mai da sentieri battuti, e senza riflettere oltre alle difficoltà che si sarebbero potute presentare, ognuno di noi diede libero sfogo a un sentimento molto simile all'allegria. Quando questo sentimento si fu un po' calmato, cominciamo a stabilire il nostro piano nei particolari e scoprimmo allora le difficoltà smisurate del nostro progetto, al punto che ci chiedemmo perfino se esso fosse realizzabile. Infatti, il nostro nuovo itinerario era molto lungo e sembrava impraticabile con i mezzi abituali. La difficoltà maggiore consisteva nell'assicurarci per tutta la durata del viaggio riserve sufficienti di acqua e di cibo. Infatti, anche calcolando il minimo indispensabile, ci sarebbero occorse quantità tali di provviste che era escluso che potessimo portare noi stessi tutto quel peso. Quanto a utilizzare bestie da soma, non se ne parlava neanche, perché non potevamo contare sul minimo filo d'erba né sulla minima goccia d'acqua. Lungo il cammino non avremmo incontrato neppure un oasi. Ciò nonostante non abbandonammo il nostro piano, ma dopo matura riflessione decidemmo di comune accordo di non intraprendere nulla per il momento, per permettere a ognuno di noi di consacrare durante un mese intero tutte le risorse della propria intelligenza al fine di trovare una via d'uscita per questa situazione senza speranza. Inoltre, a ognuno sarebbero stati dati i mezzi per andare ovunque volesse e per fare qualsiasi cosa. La direzione dell'impresa era affidata al professor Skridloff, che avevamo scelto come capo in quanto era il più anziano e il più rispettabile fra noi, ed era fra l'altro responsabile della nostra cassa comune. Sin dagli indomani ricevemmo tutti una somma di denaro. Alcuni lasciarono il villaggio, altri vi rimasero e si organizzarono, ognuno secondo il proprio piano. Il raduno successivo doveva aver luogo in un piccolo villaggio situato ai margini delle sabbie che ci proponevamo di attraversare. Un mese più tardi ci ritrovammo sul posto e vi ponemmo il nostro accampamento sotto la direzione del professor Skridloff. Ognuno dovette quindi presentare un rapporto sulla soluzione da lui progettata. L'ordine dei rapporti venne sorteggiato. I primi tre furono, in primo luogo, quello del geologo Karpenko, poi quello del dottor Shari Oglet e infine quello del filologo Yelov. Questi rapporti erano di un interesse così palpitante per la loro novità, l'originalità della loro concezione e perfino la loro forma di espressione che si sono impressi nella mia memoria e che ancora oggi posso ricostruirli quasi parola per parola. Karpenko cominciò così il suo discorso. Benché a nessuno di voi, lo so, piaccia il modo di fare degli scienziati europei, i quali invece di andare diritto allo scopo vi stanno a sciorinare una lunga storia e risalgono quasi fino ad Adamo, questa volta la questione è così seria che trovo necessario, prima di sottoporvi le mie conclusioni, farvi conoscere le riflessioni e le deduzioni che mi hanno portato a ciò che fra poco vi proporrò. Egli fece una pausa e quindi riprese. Il Gobi è un deserto le cui sabbie, come afferma la scienza, sono di formazione tardiva. Esistono due ipotesi a questo proposito. Queste sabbie sono o un antico fondo marino, oppure sono state portate dai venti delle vette delle catene rocciose dello Jansan, dell'Indukush, dell'Himalaya e delle montagne che una volta delimitavano il deserto a nord ma che sono scomparse, consumate dal vento nel corso dei secoli. Tenendo presente che prima di tutto dobbiamo preoccuparci di avere abbastanza cibo per tutta la durata del nostro viaggio attraverso il deserto, sia per noi sia per gli animali che ci sembrerà utile portarci appresso, ho preso in considerazione entrambe le ipotesi e mi sono chiesto se non ci saremmo potuti servire a questo scopo della sabbia stessa. Ecco come ho ragionato. Se queste sabbie sono davvero un antico fondo marino, devono necessariamente presentare uno strato o una zona di molluschi diversi. Ora, siccome i molluschi sono costituiti da organismi, essi devono contenere sostanze organiche. Per noi si tratta dunque soltanto di trovare il modo di rendere queste sostanze assimilabili e suscettibili di trasmettere così l'energia necessaria alla vita. E se le sabbie di questo deserto sono un prodotto dell'erosione, cioè se sono di origine rocciosa, è stato provato in modo incontestabile che il terreno della maggior parte delle oasi benefiche del Turkestan, come pure quello delle regioni vicine a questo deserto, ha un'origine puramente vegetale ed è costituito da sostanze organiche provenienti da regioni più elevate. Se è così, tali sostanze si sono anch'esse dovute infiltrare e mescolare durante i secoli nella massa generale delle sabbie del nostro deserto. Poi ho pensato che, secondo la legge di gravità, tutte le sostanze o elementi di sostanze si raggruppano sempre secondo il loro peso, e che nel caso presente le sostanze organiche infiltratesi, più leggere della sabbia di origine rocciosa, si sono anch'esse dovute raggruppare a poco a poco per costituire degli strati o delle zone. Una volta giunto a queste conclusioni teoriche, ho organizzato, per fare una verifica pratica, una piccola spedizione all'interno del deserto, e dopo tre giorni di marcia ho cominciato le mie ricerche. In alcuni posti ho ben presto trovato uno strato di terreno che a prima vista non si distingueva dalla massa generale delle sabbie, ma di cui una semplice osservazione superficiale indicava l'origine nettamente diversa. L'esame microscopico e l'analisi chimica degli elementi distinti di questa materia eterogenea dimostrarono che essa era composta dei corpi di piccoli organismi e di vari tessuti di origine vegetale. Suddivisi un carico di questa sabbia tra i sette cammelli che avevo a mia disposizione, tornai qui, e dopo essermi procurato con l'autorizzazione del professor Skridlov vari animali, cominciai a fare esperimenti su di loro. Avevo dunque comprato due cammelli, due yak, due cavalli, due muli, due asini, dieci pecore, dieci capre, dieci cani e dieci gatti che rischi. Cominciai con l'affamarli dando loro soltanto il cibo strettamente necessario per mantenerli in vita, e a poco a poco mescolai al loro cibo della sabbia preparando il miscuglio in vari modi. Per vari giorni nessuno degli animali volle toccare uno solo di questi miscugli, ma dopo una settimana di prove su un nuovo preparato, le pecore e le capre si misero a mangiare con grande piacere. Concentrai allora tutta la mia attenzione su questi animali. Due giorni più tardi mi ero pienamente convinto che le pecore e le capre preferivano questo miscuglio a qualsiasi altro cibo. Il miscuglio era composto di sette parti e mezzo di sabbia, due parti di pecora tritata e una mezza parte di sale comune. All'inizio tutti gli animali sottoposti ai miei esperimenti, comprese le pecore e le capre, perdevano quotidianamente da un mezzo al 2% del loro peso totale. Ma le pecore e le capre, a partire dal giorno in cui si misero a mangiare questo miscuglio, non soltanto smisero di dimagrire, ma ingrassarono ogni giorno dai 30 ai 90 grammi. Grazie a tali esperimenti, io personalmente non ho più alcun dubbio sulla possibilità di utilizzare questa sabbia per nutrire le capre e le pecore, a condizione di mescolarla nella quantità desiderata con carne della loro stessa specie. Così, oggi, posso proporvi quanto segue. Per superare l'ostacolo principale che si presenta per la traversata del deserto, dobbiamo comprare alcune centinaia di pecore e di capre e ucciderle man mano che ci occorrono, sia per assicurare la nostra sussistenza, sia per preparare il miscuglio destinato ai rimanenti animali. Non c'è da temere che ci manchi la sabbia necessaria perché, secondo tutti i dati in mio possesso, si potrà sempre trovarne in certi posti. Quanto all'acqua, per costituirci una riserva sufficiente, bisognerà procurarci delle vesciche o degli stomachi di pecora o di capra in quantità doppia del numero delle nostre bestie, farne delle specie di ghirbe, riempirle di acqua e caricare ogni pecora o ogni capra di due ghirbe. Ho verificato che una pecora può portare questa quantità di acqua facilmente e senza danno. Nello stesso tempo, i miei esperimenti e i miei calcoli mi hanno dimostrato che tale quantità potrebbe bastare per i nostri bisogni personali e per quelli delle nostre bestie, a condizione di risparmiarla i primi due o tre giorni. Dopodiché potremo utilizzare l'acqua delle ghirbe portate dalle pecore che avremmo uccise. Dopo il geologo carpenco, il dottor Sarioglet fece il suo rapporto. Avevo incontrato il dottor Sarioglet e avevo stretto amicizia con lui cinque anni prima. Di famiglia persiana, era nato nella Persia orientale ma era stato educato in Francia. Forse un giorno scriverò su di lui un racconto particolareggiato perché era anche egli un uomo straordinario. Il dottor Sarioglet pronunciò pressappoco questo discorso. Dopo aver sentito le proposte dell'ingegner carpenco, posso dire soltanto una cosa. Passo, perlomeno per quanto riguarda la parte del mio rapporto, perché sono convinto che non si potrebbe scogitare nulla di meglio. Arriverò subito alla seconda parte. Vi descriverò gli esperimenti che ho portati avanti per trovare il modo di superare le difficoltà di spostamento nella sabbia durante le tempeste e vi metterò al corrente delle riflessioni che esse mi hanno ispirato. E siccome le conclusioni pratiche alle quali sono giunto basandomi su dati sperimentali completano molto bene, a mio avviso, le proposte dell'ingegner carpenco, ho l'intenzione di sottoporveli. In questi deserti infuriano molto spesso venti e tempeste e finché durano ogni spostamento diventa impossibile tanto per gli uomini quanto per gli animali, perché il vento solleva la sabbia, la trasporta nei suoi vortici e forma dei monticelli negli stessi posti dove un momento prima c'erano delle buche. Ho pensato che il nostro cammino sarebbe stato ostacolato da questi vortici di sabbia. Mi è venuto allora in mente che per la sua densità la sabbia non può salire molto in alto e che esiste certamente un limite al di sopra del quale il vento non può sollevarne neppure un granello. Queste riflessioni mi hanno indotto a tentare di determinare questo ipotetico limite. A questo fine ordinai in questo stesso villaggio una grandissima scala pieghevole, poi andai nel deserto con una guida e due cammelli. Dopo una lunga giornata di cammino mi stavo preparando ad accamparmi per la notte quando a un tratto si levò il vento. Dopo un'ora la tempesta raggiunse una tale violenza che diventò impossibile per noi stare in piedi e perfino respirare in quell'aria satura di sabbia. Con grande difficoltà spiegammo la scala che avevo portata e la drizzammo alla meno peggio aiutandoci con i cammelli. Poi mi ci arrampicai. Immaginate la mia sorpresa quando constatai che, a un'altezza di appena sette metri, nell'aria non c'era più un solo granello di sabbia. La scala era alta venti metri buoni. Non ero neppure giunto a un terzo della sua altezza che già emergevo da quell'inferno e contemplavo un magnifico cielo stellato illuminato dalla luna, di una calma e di una tranquillità rare anche da noi nella Persia orientale. Sotto regnava sempre un caos impossibile a immaginarsi. Avevo l'impressione di stare su un'alta scogliera in riva all'oceano e di dominare il più terribile degli uragani. Mentre dall'alto della mia scala ammiravo la bellezza della notte, a poco a poco la tempesta si quietò e dopo una mezz'ora potei scendere. Ma là sotto mi attendeva una disgrazia. Benché l'intensità della tempesta fosse scemata, vidi che l'uomo che mi aveva accompagnato continuava a camminare nel vento sulla cima delle dune, come si usa fare durante queste bufere, portando con sé uno solo dei cammelli. L'altro, mi disse, si era slegato poco dopo la mia ascesa e se n'era andato non sapeva dove. Allo spuntar del giorno ci mettemmo alla sua ricerca, ma ben presto vedemmo spuntare fuori dalla duna non lontano dal posto dove avevamo drizzato la scala, uno zoccolo del nostro cammello. Non facemmo neppure la fatica di disotterrarlo perché era evidente che era morto e che era già sepolto troppo profondamente nella sabbia. Prendemmo subito la via del ritorno e ingoiammo camminando il nostro cibo per non perdere tempo. La sera stessa eravamo tornati al villaggio. Sin dall'indomani feci fabbricare in località differenti per non destare sospetti alcune paia di trampoli di varie dimensioni, e portando con me un cammello carico del materiale e delle provviste strettamente necessarie, tornai nel deserto, dove mi esercitai a salire sui trampoli. Prima su quelli più piccoli, poi, a poco a poco, su quelli più alti. Non era tanto difficile procedere sulla sabbia con questi trampoli perché vi avevo fissato delle suole di ferro di mia invenzione, che mi ero ben guardato, sempre per prudenza di ordinare negli stessi posti dei trampoli. Durante il periodo che trascorsi nel deserto per esercitarmi, affrontai altri due uragani. Uno di essi, a dire il vero, non era molto violento, ma sarebbe stato comunque impossibile muoversi e orientarsi con i mezzi abituali. Io, invece, durante questi due uragani, con i miei trampoli, passeggiai liberamente sulla sabbia in ogni direzione, come se fossi stato nella mia stanza. L'unica difficoltà consisteva nel non inciampare perché, dovunque nelle dune ci sono buche e gobbe, soprattutto durante le tempeste. Per fortuna, notai che la superficie dello strato d'aria saturo di sabbia non era uniforme e che le sue ineguaglianze corrispondevano a quelle del terreno. Perciò camminare sui trampoli mi era molto facilitato dal fatto che, a seconda dei contorni di questa superficie, io potevo chiaramente distinguere dove finiva una duna e dove ne cominciava un'altra. In ogni modo, concluse il dottor Sarioglet, dobbiamo tenere conto di questa scoperta, cioè che l'altezza dello strato d'aria saturo di sabbia ha un limite ben definito e poco elevato, e che la superficie di questo strato segue esattamente i rilievi e le depressioni del terreno stesso del deserto, per poter trarne profitto nel corso del viaggio che stiamo progettando. Il terzo rapporto era quello del filologo Jeloff. Nel suo modo di esprimersi così originale, egli cominciò così. «Se permettete, signori, vi ripeterò quanto il nostro venerabile discepolo di Esculapio ha detto a proposito della prima parte del suo progetto. Passo. Ma io passo su tutto ciò che ho pensato e delucubrato da un mese a questa parte. Ciò che volevo comunicarvi oggi non è che un gioco da fanciulli, se confrontato con le idee che ci hanno ora esposto l'ingegnere delle miniere Carpenco e il mio amico, il dottor Sario Glee, altrettanto illustre per la sua origine che per i suoi diplomi. Tuttavia, poco fa, mentre ascoltavo i due oratori, le loro proposte hanno fatto sorgere in me una nuova idea, che forse troverete accettabile e che potrebbe essere utile per la realizzazione del nostro viaggio. Eccola. Se seguiamo la proposta del dottore, dovremo esercitarci su trampoli di varie misure, ma quelli che dovremo utilizzare durante il viaggio non potranno misurare meno di sei metri e ognuno di noi dovrà portarne un paio. D'altra parte, se accettiamo la proposta di Carpenco, avremo necessariamente molte pecore e molte capre. Penso che, quando non avremo bisogno dei trampoli, invece di portarli noi stessi, potremmo molto facilmente farli portare alle pecore e alle capre. Ognuno di noi sa che un gregge ha l'abitudine di seguire il montone che si trova in testa, il capo. Basterà dunque dirigere le pecore attaccate ai primi trampoli. Le altre le seguiranno da sole, l'una dietro l'altra, in una lunga fila. Mentre ci liberiamo così dalla necessità di portare i nostri trampoli, potremo inoltre fare in modo che il gregge porti anche noi. Lasciando uno spazio per i trampoli paralleli, lunghi sei metri, vi si potranno facilmente disporre sette file di tre pecore, ossia in tutto ventuno pecore, per le quali il peso di un uomo è poca cosa. Bisognerà a tal fine attaccare le pecore tra un trampolo e l'altro, in modo da lasciare nel mezzo uno spazio vuoto di circa un metro e mezzo di lunghezza e un metro di larghezza, dove sistemeremo un confortevole giaciglio. Così, invece di soffrire e di sudare sotto il peso dei nostri trampoli, ognuno di noi se la godrà come Mukhtar Pasha nel suo harem, o come un ricco parassita che si pavoneggia nella sua carrozza lungo i viali del Bois de Boulogne. Attraversando il deserto in queste condizioni, potremo perfino imparare per strada quasi tutte le lingue di cui avremo bisogno per le nostre future spedizioni. Dopo i primi due rapporti, seguiti dal brillante finale di Yelof, qualsiasi altro suggerimento diventava inutile. Eravamo tutti così sbalorditi da ciò che avevamo appena sentito che improvvisamente le difficoltà presentate dalla traversata del deserto di Gobi ci apparivano esagerate di proposito, o addirittura inventate di sana pianta, a uso dei viaggiatori. Ci limitammo dunque a queste proposte e decidemmo di comune accordo di nascondere per ora a tutti gli abitanti del villaggio il viaggio che progettavamo di fare nel deserto. Quel mondo di fame, morte e incertezza. Decidemmo di far passare il professor Skridloff per un intrepido mercante russo venuto da quelle parti con lo scopo di avviare formidabili affari. Era venuto, così avremmo detto, per comprare greggi di pecore da portare in Russia, dove esse hanno un grande valore, mentre qui sul posto si possono avere quasi per nulla. Egli aveva anche l'intenzione di esportare lunghi, sottili e solidi pezzi di legno per le manifatture russe che ne fanno telai per tendere il calico. In Russia non si trovano legnami così duri. I telai fabbricati con le qualità del paese non resistono a lungo al movimento continuo delle macchine e per questo i legnami di questa qualità vi costano così cari. Tali erano i motivi per i quali l'intrepido mercante si era imbarcato in una spedizione commerciale così irrischiosa. Dopo aver messo a punto tutti questi particolari, ci sentimmo pieni di ardore e parlavamo del nostro viaggio con la stessa disinvoltura che se si fosse trattato di attraversare Place de la Concorde a Parigi. L'indomani ci recammo tutti in riva a un fiume, verso il punto in cui esso scompariva nelle profondità insondabili del terreno e montammo le tende portate dalla Russia. Il luogo dove il nostro nuovo campo era situato, benché non fosse molto lontano dal villaggio, non era abitato e c'erano pochissime probabilità che a qualcuno venisse l'idea di stabilirsi alle porte di quell'inferno. Alcuni di noi, con il pretesto di obbedire agli ordini dello pseudomercante Ivanov, fecero un giro nei mercati dei dintorni per comprarvi capre e pecore e pezzi di legno di varie misure. Ben presto, nel nostro campo, fu riunito un intero gregge di pecore. Seguì poi un periodo di allenamento intensivo per imparare a camminare con i trampoli, dapprima con quelli più bassi, poi gradualmente con quelli più alti. E in capo a dodici giorni, una bella mattina, il nostro straordinario corteo si inoltrò nel deserto in mezzo ai belati delle pecore e delle capre, ai latrati dei cani, ai nitriti dei cavalli e ai ragli degli asini che avevamo a buon conto comprato. Il corteo si allungò presto in una lunga fila di lettighe come la processione solenne di qualche antico imperatore. I nostri canti gioiosi risuonarono a lungo, insieme ai richiami scambiati tra le lettighe improvvisate, a volte molto lontane l'una dall'altra. Le osservazioni di Yelof sollevavano come sempre irrefrenabili scoppi di risa. Alcuni giorni più tardi, benché avessimo incontrato due terribili uragani, raggiungemmo senza nessuna fatica la regione centrale del deserto, vicina al luogo che c'eravamo prefissi come meta principale della nostra spedizione. Pienamente soddisfatti della nostra traversata, è già in grado per lo più di esprimerci nella lingua che c'era necessaria. Probabilmente, senza l'incidente che successe a Soloviev, tutto si sarebbe concluso come avevamo previsto. Camminavamo soprattutto di notte, mettendo a profitto l'esperienza del nostro compagno Daktamirov, eccellente astronomo che sapeva orientarsi perfettamente seguendo le stelle. Un giorno, all'alba, facemmo una sosta per mangiare e nutrire le nostre bestie. Era ancora molto presto. Il sole cominciava appena a scaldare. Ci accingevamo a dare l'assalto all'agnello al riso che era appena stato cucinato quando all'orizzonte apparve un branco di cammelli. Capimmo subito che erano cammelli selvatici. Soloviev, che era un cacciatore appassionato e non falliva mai il bersaglio, afferrò la sua carabina e corse nella direzione in cui erano scomparsi i cammelli. Scherzando sulla sua passione per la caccia, ci mettemmo a mangiare la vivanda calda meravigliosamente preparata in queste condizioni senza precedenti. Dico senza precedenti perché, nel cuore del deserto e una simile distanza dei suoi confini, in genere è impossibile accendere un fuoco, visto che per centinaia di chilometri non si incontra neppure un cespuglio. Eppure noi accendevamo il fuoco almeno due volte al giorno per cucinare e per fare il caffè o il tè, per tacere del tè tibetano, una specie di brodo che ricavavamo dalle ossa delle pecore macellate. Questo lusso lo dovevamo a un'invenzione di Bogossian che aveva avuto l'idea di confezionare delle selle per il carico delle pecore fatte con pezzi di legno speciale, e ogni volta che macellavamo una pecora recuperavamo ogni giorno la quantità di legna necessaria per i nostri fuochi. Era trascorsa un'ora e mezza da quando Soloviev si era lanciato all'inseguimento dei cammelli. Eravamo già pronti a rimetterci in cammino ed egli non era ancora tornato. Aspettammo ancora una mezz'ora. Conoscendo la puntualità di Soloviev che non si faceva mai aspettare eravamo preoccupati e temevamo un incidente. Prendemmo i fucili e tutti, a eccezione di due di noi, partimmo alla sua ricerca. Ben presto vedemmo in lontananza le sagome dei cammelli e ci spingemmo nella loro direzione. Mentre avanzavamo verso di loro i cammelli che avevano probabilmente fiutato la nostra presenza si allontanarono verso sud, ma noi seguitammo nelle nostre ricerche. Erano trascorse quattro ore dalla partenza di Soloviev. Improvvisamente uno di noi scoprì il corpo di un uomo disteso a pochi passi di distanza. Accorremmo subito. Era Soloviev, già morto, con il collo orrendamente rosicchiato. Una tristezza straziante si impadronì di noi perché tutti amavamo dal profondo del cuore quell'uomo eccezionalmente buono. Dopo aver fatto una barella con i nostri fucili riportammo il corpo di Soloviev all'accampamento e lo stesso giorno, con molta solennità, sotto la guida di Skridloff che in assenza di un prete recitava le preghiere, lo seppellimmo nel cuore delle sabbie. Dopodiché abbandonammo quel luogo maledetto. Benché ci fossimo spinti già molto avanti nella nostra ricerca della città leggendaria che speravamo di trovare sulla nostra strada, cambiamo i nostri piani e prendemmo la decisione di andarcene dal deserto al più presto. Facemmo dunque una deviazione verso ovest e quattro giorni più tardi raggiungemmo l'oasi di Cheria, dove la natura tornava a essere ospitale. Da Cheria riprendemmo il cammino, ma questa volta senza il nostro caro Soloviev. Sia pace alla tua anima, amico mio onesto e leale fra tutti gli amici.